Trasmitti, nell'ombra panina, il sconfice delle falsità In questo letto un traffatto, ma confonderti con un ratto Il pipistrello è più scaltro, inizia un nuovo atto Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà Sempre a top la porterà, e un ritornello partirà BDK, lo youtuber non ti scappa, BDK, ogni streamer stacca, stacca BDK con la guerra esulterà, e un corposo sul can Produncerà, oh oh oh, produncerà, oh oh oh, produncerà, oh 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 Come un veggente, pipistrello esigente, tra videogames e lealtà Per difendere la libertà, non supporta dicerie Sono tutte fantasie, il pipistrello è scelmatto, inizia un nuovo atto Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà Sempre a top la porterà, e un ritornello partirà BDK, lo youtuber non ti scappa, BDK, ogni streamer stacca, stacca, oh 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 BDK con la guerra esulterà, e un corposo sul can Produncerà, oh oh oh, produncerà, oh 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 BDK, lo youtuber non ti scappa, BDK, ogni streamer stacca, stacca, oh 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 BDK con la guerra esulterà, e un corposo sul can Produncerà, oh oh oh, produncerà, oh oh oh, produncerà, oh 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 Produncerà, oh oh oh, produncerà In questo war contraffatto, non confonderti con un ratto I pipistrello è un altro, inizia un nuovo atto Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà Dopo ci appartirà, e un ritornello inizierà BDK, lo youtuber non ti scappa, BDK, ogni streamer stacca, stacca, oh oh BDK con la guerra esulterà, e un corposo sul can Produncerà, oh 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 Letto, letto, DZ Ciao, ciao, mostriciattoli BDK, qualche catania si aggrappa Si aggrappa Eh, neanch'io lo so ragazzi, benvenuti in questa live ragazzi Non dovevo fare questa live, come che si dico, come che dicono gli youtuber Non dovevo fare questo video, una cosa del genere Ma sono costretto purtroppo a farlo E, attenzione, io vi ho detto su Instagram Che avrei tenuto probabilmente la chat solo sub Se vi comportate bene, visto che è una live dedicata, delicata, scusatemi Non lo metto solo sub, però l'importante è che vi comportate bene Questa è una live che serve uno per avvertire sia voi e soprattutto anche i ragazzi che mi seguono su YouTube Perché la serie sta andando abbastanza bene su YouTube, no? Sui ricaricamenti delle live E molti ragazzi appunto mi contattano in privato su Instagram Dicendo che non possono vedere 6-9 ore Grazie Mario Sono una persona cattiva, sì 6-9 ore di live E quindi preferiscono vederselo piano piano senza perdersi dei passaggi Quindi questa sarà una live che servirà anche a quelle persone Per far capire cosa è successo e come ci comporteremo Anche perché voglio tenere la chat aperta per discuterne insieme su cosa fare per il Catania Questa non vuole essere una live dove andrò ad offendere Non mi interessa farlo Lo faccio fare ai coglioni che lo fanno Grazie Pasqualino, grazie Sancio E la madonna un dietro l'altro Appunto dicevo lo faccio fare ai coglioni Che nonostante scoperti lo fanno Che bannano per poi trovare giustificazioni su Instagram In modo che io non posso rispondere Però oggi chiudiamo la bocca una volta per tutte Perché vi farò vedere per filo e per segno quello O almeno non tutto Non posso far vedere tutto Per il semplice fatto che non ho la conferma al 100% Ma sulle cose confermate al 100% Ve le farò vedere Poi nel caso ci sarà qualche risposta o qualcosa che non mi piace Allora andrò a far vedere anche altro Vi porterò anche delle persone che erano presenti quel giorno Delle persone che sanno cos'è successo Possono confermare perché erano ad ascoltare insieme a me Quindi non possono dire nulla E appunto vi farò vedere come è stato sfasciato il gioco Con una semplice ricerca Delle impostazioni messe E vi spiegherò per quelli che non capiscono Football Manager Cosa vuol dire Vi invito anche a ricordare Che vi ricordo anche Che c'erano tre regolamenti Sulla carriera allenatore Su Football Manager E che bastava fare punto esclamativo Carriera Cop FM Lo trovate Comunque ci sta il comando Per ricordare Sia chi partecipa Sia chi guarda Quali sono Qual è il regolamento Appunto Della serie E poi vi spiegherò perché Appunto Ho deciso O meglio Abbiamo deciso Abbiamo deciso tutti Perché io non decido nulla La serie Cop È di tutti Soprattutto di quelli che partecipano Quindi io non faccio Grazie Grazie Luca Zile di zile Io non faccio appunto Basta fare punto esclamativo FM Sì aspetta No FM in grande ragazzi In maiuscolo Basta fare punto esclamativo FM in maiuscolo E appunto c'era Il regolamento Il regolamento era semplicissimo Bastava Come non va Vedo se il bot si è disattivato Come non va Cioè è attivo il bot Riprovo a disattivare e attivare Vediamo Provo io Vediamo un attimo Vediamo No Non va Grazie Streamlabs Come sempre Vabbè Ve lo dico io Che cosa c'era scritto Mi scammano pure I bot Sì qua Praticamente Il regolamento Della carriera Cop Eccolo qui Lo trovo davanti ai miei occhi Vediamo Dov'è Non è timer Ma è su comandi Ah ok Provate adesso Provate adesso Che si era disattivato Provate adesso Adesso dovrebbe funzionare Vediamo Niente Non va Ma che cazzo Punta esclamativa FM Vabbè Comunque Ve lo leggo io È rotto il cazzo Sto coso C'è scritto Questa è una carriera cop Su FM Ogni utente Ha una propria squadra Da costruire Partendo dalla serie C I partecipanti Non possono seguire la live Per evitare Di essere sleali I partecipanti Possono mancare In alcune live Ma devono impostare Off screen Le impostazioni E le tattiche Le istruzioni E le tattiche Se un utente Viene esonerato Salta automaticamente Almeno un anno di gioco Gli allenatori Non possono copiare Tattiche da internet Altrimenti Si falserebbe La comprensione Delle La comprensione Degli analisti E la lealtà Della carriera Adesso vi dico Perché analisti Per quelli che Non conoscono il gioco E vi faccio vedere Con i vostri occhi Appunto Cosa è successo Cosa È stato fatto Io non dico Neanche il nome Di quella persona Che di sicuro Mi sta guardando Lo salutiamo In incognito Ciao Quando avrai Un po' più di coglioni Ed eviterai Di bannare Ti prenderai La merda Che meriti Allora lì Sarai una persona Migliore Ma fa niente Eviterò di dire Di far vedere Messaggi privati Perché appunto Il mio scopo Non è denigrare La persona Ma sono rimasto Un po' stizzito Va da due atteggiamenti Il primo atteggiamento È pensare Che io non lo sapessi Ma lo sapevo E quindi iniziare Ad offendermi Dopodiché Ha avuto la dimostrazione Che lo sapevo Perché forse Non ha fatto Il 2 più 2 Perché io posso fare Un semplice passaggio Ragazzi Il semplice passaggio È questo Io posso andare In stato partita Vado su ognuno Di questi utenti Che partecipano E faccio Prendi il controllo E posso vedere Quelle che sono Le istruzioni Ma vi racconterò Come ho avuto La conferma Di tutto ciò La conferma Di tutto ciò E poi appunto Dopo aver fatto Questa grossa Enorme parentesi Decideremo Quello che sarà Il destino Del Catania Perché quella persona Non parteciperà Parteciperà più Io Voi immaginate Che volevo anche Tra virgolette Farlo uscire bene E gli avevo dato Anche la possibilità Se nel caso Il Messina Risaliva in SLC Di ripartecipare Poi Appunto Vedendo determinati Comportamenti E Parlando con i ragazzi Non voglio rischiare Che la mia serie Vada a puttane Per colpa di Una persona Che non è Capace di perdere E non è capace Di vincere Con le proprie mani E che ha un ego Così tanto smisurato Che pensa di essere Il dio del mondo Quando Ha semplicemente Distrutto Una carriera Adesso Vi spiego Innanzitutto Cosa è successo Prima di farvi vedere Nello specifico Cosa è stato fatto Vi spiego Innanzitutto Cos'è successo Anzi Ve lo faccio vedere Anche con gli occhi Così almeno capite Poi prenderò il controllo Ma adesso È importante Poi vi farò venire Anche le persone Se nel caso Non ci credete Io faccio questa live Non per buttare Merda addosso Alla persona Anche se lo meriterebbe Ma non per buttare La merda addosso a lui Ma appunto Per non far Diventare Questa carriera Una Un'enorme Busta di piscio Ok Nel senso che Una volta che le persone Capiscono Che cos'è Che cosa stava facendo La credibilità Della serie Andava a puttane E visto che Non voglio E assolutamente Non sono una persona E credo di averlo dimostrato Anche in privato Perché potevo Semplicemente stare zitto E Trovare una soluzione In questi giorni Non sono andato in live Appunto per Queste bimbe minchiate E poi devo sentirmi dire Pure che sono un mostro Che Nonostante le persone Gli hanno voluto Mi hanno voluto bene Le tratto in questa maniera Se una persona Ti vuole bene Non ti rovina una carriera Se una persona Ti vuole bene Gioca onestamente Non è la prima volta Che succede Ragazzi È già successo In altri giochi Dove La solita persona Ha Ha fatto sempre Le stesse cose Faccio un esempio Sui GP Manager Il gioco online Di Formula 1 C'era un regolamento Non acquistate Perché è un gioco Dove si può anche Acquistare i motori No eh Ovviamente Secondo voi Avrà Non acquistato i motori Per provare a vincere Va bene Colpa mia Io la colpa La do a me Non a lui Perché dovevo sapere Com'era quella persona E non dovevo farla partecipare Ma Ma niente Pensavo fosse cambiato Invece è rimasto Più bimbo minchia di prima Ma togliendo questo Vi faccio capire Che cosa è successo Nella prima stagione E come ha falsificato Quello che sono Le due stagioni Soprattutto nel gruppo C E serie B E soprattutto Perché avete visto Squadre Come il Sassuolo Che all'improvviso Dalla serie A Sono diventate Delle squadre Bidonazze E poi andremo A vedere nel dettaglio Tattiche Giocatori Che aveva E farvi capire Che cazzo Ha combinato Bene Sì Per quello Ho smesso di fare I GP manager Non c'era più gusto E ero convinto Che stesse facendo quello Poi ho avuto la conferma Proprio da lui Però vabbè È iniziato così No Questa è stata La prima stagione Dove è iniziato A fare appunto L'amichevole Poi la prima partita Amichevole L'ha già persa Poi si è fatto Alcuni amichevoli Si è fatto il Parma Pareggiato Poi ha vinto Questi amichevoli Ed è iniziato Il campionato Prima Due partite Soffrendo Vince 4 a 2 E 4 a 3 Vi faccio vedere Anche nello specifico Così Oh Ah non te le fa vedere Cazzo Perché non me le fa vedere Non mi fa vedere Ah no Forse se prendo il controllo Scusate Prendo il controllo Ok Io posso prendere il controllo E vedere tutto Ma andrò Piano piano Così riuscite a vedere tutto Allora Guardate un po' Inizia il campionato Perché non me le fa vedere più? Non mi fa vedere le partite Ma com'è possibile? Questa sì Le altre no Ma scusate L'altro giorno L'abbiamo fatto Come mai Adesso non ci fa vedere più Le partite? Non è un problema Si può caricare Il save precedente Andiamo a prendere Il save precedente Nessun problema Chi è? Grazie Dizzy Grazie È incredibile È incredibile Come adesso Non posso vedere Le partite precedenti L'abbiamo fatto in privato Prendo il salvataggio precedente Dovrebbe farmelo vedere Tranquilli Allora Devo andare su documenti Sport Interactive Perché io mi sono preso Un salvataggio precedente In modo che non Anzi vediamo se posso Da qui già Quelli più precedenti Ci sono Tipo questo Se carico Con calma Vediamo se così Ce lo fa vedere Eh Però il problema Che in privato Me lo faceva vedere Non so perché Vediamo adesso così Questo è un salvataggio precedente Prendo il Catania Calendario Ok Adesso me li fa vedere Ok ragazzi No aspetta Sì 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 Me li fa vedere Ok ragazzi Il campionato è iniziato così Vince due partite Vi faccio vedere Con Con che modulo giocava Ok Il modulo che più o meno Utilizzo io Quindi un 4 1 2 2 1 Un 4 1 4 1 Come volete chiamarlo voi Quindi un solo mediano Due centrocampisti Due ali E un attaccante Ok Quindi Ha iniziato bene Le prime due partite Poi Un filotto Di Di pareggi Quindi in sei partite Si è fatto tre vittorie E tre pareggi Quindi Noi abbiamo Appunto Concesso Di prendere Il Catania Che era Una squadra Abbastanza forte Perché il ragazzo Giustamente Non avendoci mai giocato Abbiamo detto Diamogli un vantaggio Gli diamo una squadra Un po' più forte No La questione è che Ok Mi pareggi Poi vince col Pineto Poi perde 3 a 2 E qui E qui Apriti cielo Perché L'ultima volta Che vedrete Questo modulo Sarà appunto Con il Foggia Ok Sarà appunto Con il Foggia Dopodiché Da lì Ragazzi Qualcosa cambia Qualcosa cambia E contro il potenza Come potete Ben notare Il modulo del Catania Cambia Improvvisamente Adesso Nel momento in cui Ha cambiato il modulo Non mi sono fatto Tante domande Per il semplice fatto Ciao Emma Per il semplice fatto Che Ho guardato il modulo Quando ha giocato E ha vinto 3 a 0 Col potenza Ho detto Beh Questo modulo Con i tre mediani Non ha collante Al centro campo E molto staccato No Perché I mediani Sono molto lontani E quindi Non vanno a supportare L'attacco Secondo me Da inesperienza Sta commettendo Un errore No Grazie Mauri Adesso arrivo su Discord Adesso arrivo su Discord Così avrete anche Altre Appunto Persone che hanno ascoltato Sentito In modo che Se quella persona Ha provato Mi ha bannato Su Instagram Per non farmi vedere Per provare Di scolparsi In modo che Io non potessi risponderlo Avrete questo video Per la risposta Su tutto In modo che La sua furbizia Venga disintegrata E vi Chiedo Umilmente Di Non Di non avvertirmi Se scrive qualcosa Perché non me ne frega Proprio niente La verità Sta in questa live E Ve lo dimostrerò In ogni salsa Eviterò Appunto Di farvi vedere E Ho delle certezze Ma queste certezze Non le posso far vedere Nel senso Di alcune cose Non le posso far vedere Perché non ho Screen Ok Non avendo screen Non posso dire Che è stata fatta Una determinata cosa Posso dire solo Quello che è stato fatto Con certezza Dopodiché Non mi spingo oltre Le persone Che sono In privato Con me Sanno già Cosa Cosa penso E cosa pensano loro Di cosa abbia fatto Però Io Vi metterò solo In guardia Cioè Vi farò vedere Semplicemente Quello che Che secondo me È strano Quello che è stato fatto Che rompe il gioco E via dicendo Ok Senza andare A puntare il dito Su un qualcosa Che non ho la certezza Ok Sì Sì infatti Ragazzi Se rispondo A tono È perché appunto Mi sono Nonostante Per colpa sua Ho perso Dei giorni di live E oggi Non farò Football manager Ma Vi farò vedere Semplicemente Per informarvi In modo che La prossima live Ovvero quella di domani Non sia un Pierre perché Non c'è il Catania Io posso linkare Questa live In modo che Può essere informato Su tutto Perché mi rompo il cazzo In ogni live Poi A parlare di quella persona E non voglio farlo Questa sarà la prima E ultima volta Perché non ci voglio neanche Spendere tempo Con persone del genere Dicevo appunto Che nonostante Io abbia perso Dei giorni Di lavoro Per una bimba Minchiata Di una persona Che non è capace Di perdere Accettare sconfitte Una persona che Ci tiene Ci tiene al canale No E se fossi stato Un pezzo di merda No ragazzi Io stavo zitto E continuavo E mi pigliavo Il livello 3 Della sua sub Invece Sinceramente Non voglio farlo Non voglio farlo Perché lo sa anche lui Che in privato Ha voluto cercare Di ammacagnare E prendervi per il culo Ma io Ho rifiutato Questa cosa E poi Ve lo farò dire Da altre persone In modo che non sono io Quello che inventa le cose No Dopodiché ragazzi Dopo la sconfitta E il cambio modulo Guardate Lo score del Catania No Vi ricordo che Alla sconfitta Contro il Foggia Era 4 punti Dietro al Foggia Guardate lo score Ok È uno score strano Pochetto Ok il Catania Però un pochetto strano Lo era No Vogliamo Ricordare Il 6 a 0 Contro il Foggia Il 6 a 0 Contro il Foggia E qui E qui Mi è iniziato A arrivare Il dubbio Perché Mi è iniziato A arrivare Il dubbio La questione è che Diciamo che La percentuale Di intelligenza Di una persona Sta anche a Saper scammare Nella vita Nel senso che Quando vedi Che vinci troppo Cerca almeno Di provare A non vincere Per non farti sgamare Ma Probabilmente Non è quello Che insegnano All'università Vabbè Questo 6 a 0 Mi è parso Molto strano Ma Siccome Ve lo possono dire Anche i ragazzi Che partecipo Alla Cop Quando capita Che devo fare Una dimostrazione In privato E prendo il controllo Davanti ai loro occhi Della loro squadra Non mi permetto D'andare su tattiche Perché non voglio Assolutamente Sapere come giocano Perché motivo? Non voglio sapere Come giocano Per il semplice fatto Che non Voglio prendere Un vantaggio Sul sapere Come giocano E infatti Appunto Il regolamento È quello Che loro Non devono guardare La live Perché deve essere La stessa cosa Poi Ovviamente Se mancano E guardano la live Fa niente Io sono lo streamer Devo cercare di far divertire Non me ne frega di vincere Anche perché Io parto Un pelo in vantaggio Su alcune persone È molto in vantaggio Sulle altre Perché io Football manager Ci ho sempre giocato In privato Alcune volte L'ho portato anche Su youtube Alcune volte L'ho portato All'inizio di twitch Ma non l'ho mai portato Con continuità A differenza Che nel privato Ci ho sempre giocato Tantissimo 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 Quindi diciamo Che a parte Non avere Gli analisti Che possono dirti Dove che sbagli Nel corso del tempo Pierre parte avvantaggiato Perché già ha un po' Più di sapere Del gioco Quindi sa già Che su un 433 Utilizzare il pressing alto Funziona di più A differenza Degli altri Che giocano di meno Oppure non hanno mai giocato Con un 433 Quindi Fa niente Se capita Che non ci sono in live Per seguire la live Vedono il modulo I ruoli Sti cazzi ragazzi Perché di base La carriera Era Stata Startata Per divertirci Tutti insieme Il bello era appunto Io sfido te Tu sfidi me A pari livello Mentre Cosa è stato fatto qui Nel momento in cui È arrivata la sconfitta Contro Effoggia Si è trovato un rimedio Per evitare di perdere Ok Un rimedio Per evitare di perdere E distruggere tutto Perché Se vi ricordate Avete seguito Leggermente Le mie live Molte squadre Contro il Catania Iniziavano a spazzare A caso Vi ricordavate Vi ricordate Che dicevamo in live Ma come cazzo è possibile Solo contro di lui Gli avversari Prendono il pallone E spazzano a caso E adesso vi dirò Il perché Leggo un attimo La chat Giusto ancora Mi sono perso qualcosa Sì sì Due messi tutti verdi Ha vinto con 99 punti Vi faccio vedere anche questo Così almeno Vi rinfrescate la memoria Perché io poi Arriverò con calma Ho tempo Però appunto Deve essere Un qualcosa Di spiegato bene Perché sennò poi Si arriva a dei dubbi E io non voglio Creare dei dubbi Ma voglio finire Questa live Con tutti che sono stati informati Hanno capito Per bene Quello che è successo Dopodiché Non ne parlerò più Perché sinceramente Non voglio dare neanche adito E il mio scopo Non è quello Di far Live Per attaccare Anche ripeto Che i sassolini E la scarpa Me li voglio togliere Perché appunto Sono stato trattato di merda Nonostante Amico E ho provato A cambiare un pochettino La situazione E invece Tanto amiche Che le altre persone Non sono state Mi hanno attaccato Ieri Praticamente Avete visto il post Della Fanta Gazzetta Che ho fatto Sono stato attaccato Ed era praticamente Una sorta di scusa Per bloccarmi Su Instagram Perché Sapeva che oggi Avrei fatto questa live In modo che lui Adesso con i suoi amichetti Può discolparsi Dicendo che Lui non ha fatto nulla Sto dicendo Cazzate Tranquilli È tutto su video C'è una bella cartellina Piena piena In modo che Vi farà vedere Tutto In modo che Anche se dice così È una persona Creda a lui Basta vedere questa live Per capire Quanto scam c'è Un pochettino Come faceva Eros Ramazzotti Quando scam c'è Ah no Non mi ricordo Quale era la canzone Se era Eros Comunque Io ieri Faccio una Fanta Gazzetta Che sapeva anche lui Che avrei fatto In modo scherzoso Dove Appunto Grazie ciccio Grazie Sì Voglio cercare Di informare Per bene Anche gli altri Che non sono Sul gruppo Telegram Perché sennò Poi domani Arriviamo Perché Catania Non c'è Perché così Perché colì Purtroppo Non dipende da me Questa era La prima annata Ricordatevelo Guardate anche Il Foggia Dov'è Ricordatevi Che il Foggia È secondo E poi vi spiego Perché il Foggia È secondo Comunque Vi dicevo Faccio questa storia Su Instagram Sapeva anche lui Che l'avrei fatto In modo scherzoso Ieri sera Probabilmente Pensandoci Ha detto È meglio Se lo attacco Gli dico Che sono un mostro Che attacco Le persone Che lo hanno aiutato Che gli sono state amiche Dicendo Che L'ultimo pezzettino Quello in basso a destra Era offensivo E che le persone Si ammazzano Per quella cosa Andiamo a leggere Qual è l'ultimo pezzo Che ho scritto Su Instagram Scrivo Studente Di ingegneria Questa era una battuta No Perché lui È studente Di ingegneria No Comprava gli esami È una similitudine Sul Quello che ha fatto Col Catania No In modo scherzoso Non è che Nella realtà Lui compra gli esami Ok Vabbè Non ci vuole un genio Io Chiederei All'insegnante Di ingegneria Di cercare di Insegnare meglio A capire Quattro frasi In croce Radiato dall'università Sotto Per far capire Che è uno scherzo Pensavo si potesse fare È stato il mio amico Ma fugge quando Perché Perché c'è scritto Pensavo si potesse fare Perché Quando Quando l'ho sgamato E gli ho dato E gli ho dato la dimostrazione Che sapevo Lui mi dice Ma io pensavo Che si potesse fare Io ho chiesto al mio amico Il mio amico Mi ha dato Tutte le istruzioni Adesso A prescindere Se te l'ha dato il tuo amico O hai ricercato su internet Perché per me Ha ricercato su internet Ma vabbè Poi lo andiamo a vedere Cosa ha ricercato Però dico A prescindere da questo A prescindere se te l'ha dato il tuo amico C'è scritto E A inizio serie Dico Ragazzi Gli allenatori siete voi Cerchiamo di Se non capite Determinate cose Ricercate Ma non fate il copia e incolla Su delle tattiche Che poi Nel miglior dei casi Dicevo Se copiano Vabbè Sono delle tattiche Copiano delle tattiche Calma Calma Ci arriviamo E lui fa Eh ma Non pensavo Non si potesse fare Me l'ha dato il mio amico E vi ricordate Che in live dicevamo Sì il tuo amico Internet Explorer Bene Google Probabilmente Bene E la questione È che Ha fatto proprio un copia e incolla Di un video Su YouTube Dove C'è scritto Il 433 Che Distrugge FM Potete ricercarlo voi È questa Signori È la tattica Prendiamo il controllo del Catania Tattiche Adesso Se voi ricercate Su YouTube Il video Di questo ragazzo Mister FM Se non sbaglio E sentite tutto il video Capite Che cos'è Voi dite Ma allora Su Football Manager Ci sono dei moduli Che ammazzano il gioco Calma Vi spiego perché E cosa succede E cosa succede Quando Si mette questo modulo Questi moduli Ce ne sono 4 o 5 Perché io vengo A scoprire Di questo Perché nel momento in cui Alla fine della prima stagione Lui acquista Falcao Per fare il grande Mi manda Uno screen in privato Dove cancella Le posizioni E io gli rispondo Ah bello guardare le live Vi ricordo che L'ho già avvertito 4 o 5 volte In live E nelle ultime live Lo attaccavo Perché già sapevo E facevo finta di nulla E dicevo Bello cancellare i ruoli Mentre tu guardi le live Lì già mi è puzzata di cosa Ma Ho detto Un giorno deve commettere l'errore E quel giorno Sarò pronto Con il tastino dello stamp Con il tastino dello stamp Sulla tastiera Fai lo screen Quando condividerà qualcosa A schermo su discord In privato Quel giorno è arrivato Sei giorni fa Condivide lo schermo Involontariamente Premi su tattiche In un microsecondo Io premo stamp E lì Faccio una ricerca Faccio una ricerca Scrivo 433 E mi appare Il 433 Di Zidane Che rompe FM Apro questo Apro questo video E vado a comparare Quelle che sono Le istruzioni Di possesso In transizione In non possesso E le vedo Praticamente Identiche Non c'è nulla Che cambia Nulla Allora dico Ok Ma potrebbe essere Che avrà cambiato Qualcosa Qui Qui Ho cambiato Qualcosa Quindi io vado A premere qui Vado su modifica E vado a vedere Tutte queste istruzioni Tutto Praticamente Identico Con la differenza Che ha fatto Qualche piccolo Cambio Dopo Quando l'avevo Già scoperto Quando l'avevo Già scoperto L'iniziavo ad attaccare In live Qualche piccolo Cambio E' stato fatto Io adesso Non voglio andare Nello specifico C'ho una bella cartellina Su Google Drive Ma non voglio fare Questa live Per arrivare Alle 8 Ancora a parlare di lui E semplicemente Per farvi Capire Il perché Abbiamo deciso Di esonerarlo Cioè Via Poi lui Ha deciso Di andare via Dal gruppo Facendo la parte Dell'offeso Nessuno l'ha offeso Sul gruppo Ma si scherzava Si scherzava Del tipo Ciao Zidane Queste cose qui No Dopo che fai una cosa del genere Prenditi almeno Un pochettino Di prese per il culo Non è che ti stavano offendendo E esce dal gruppo Dicendo che Faceva la parte Dell'offeso Il problema è che E' uscito E non è più rientrato Quindi Mi ha dato anche il nervoso Perché nel frattempo Che lui è uscito E non è neanche rientrato E' sparito E io nel frattempo Non potevo andare in live Per cercare una soluzione Per farlo uscire pulito E allora lì ho detto No Adesso basta Adesso hai rotto il cazzo Scusami Ma Visto che ti devo anche parare il culo Adesso Faccio vedere Nel minimo dettaglio Potevo dire Appunto Che Non sapendolo Ha utilizzato Quel modulo E che verrà penalizzato Stop Adesso dico davvero Le cose come stanno Anche perché Vi possono confermare Adesso Tra un po' Andremo su Discord Ve lo farò confermare Lui in privato Una volta sgamato E ha iniziato a chiedere Scusa a tutti Eccetera eccetera Tutti i partecipanti Stava trovando un modo Per uscirne pulito E uno di quei modi Per uscirne pulito Era Ragazzi Facciamo così Io lascio il Catania Vado al Messina E dico che Quella è la squadra Della mia città E lascio il Catania Facendo passare Praticamente Che lui era Superiore E quindi Andava di nuovo In Serie C E quindi Non aveva bisogno Di vincere il campionato No Perché avrebbe lasciato Tutti quegli acquisti falsi Ragazzi Vi ricordate In chat Ve lo chiedo a voi Vi ricordate Quando ho annullato Il trasferimento Quando mi chiedeva Pinzoglio Senza squadra Vi ricordate Scrivete in chat Vi ricordate Poi ho annullato Perché per me era troppo Quello che mi chiedeva Pinzoglio Pinzoglio Vi voglio ricordare Pinzoglio gli anni Pinzoglio 34 anni Senza squadra Ok 160 mila Mi ha chiesto Andiamo a vedere Quanto gli ha chiesto Sanchez E quanto Percepisce Di contratto Bene Chiuso il discorso Vi faccio intuire Vi faccio intuire Chiuso questo discorso Vi ripeto Senza che io adesso Apro un video Di uno youtuber E farvi vedere Quel modulo Che vi spiega Che con una squadra Neopromossa In serie A Fate 116 punti Ok E anche mettendo Giocatori scarsi Vinci Con questo modulo Perché gliel'ho fatto Testare a lui In privato Mettendo tutti i giocatori Primavera Contro la seconda Naltropo vinceva Mettendo i giocatori Tutti stanchi Ha vinto Delle partite Non riusciva a perdere Anche perché Un altro suo modo Per cercare di prendere Per culo la chat E io non lo volevo fare Era quello Di iniziare a perdere Tutte le partite Le prossime partite Che mancavano Per la serie B Vi ricordo che questo È un caricamento precedente E alcune partite Le abbiamo già fatte Mancano poche Però il suo obiettivo Era quello Di perderle tutte In modo che Faceva la parte Che non si trovava più E doveva prendervi Per il culo Perdendo tutte le partite L'ho fatto fare In privato E ha scoperto Che anche Mettendo Nelle tattiche Ormai Sanchez Che marca l'attaccante L'ala sinistra Che marca Il terzino destro L'ala destra Che marca Il terzino sinistro Della squadra avversaria Quindi praticamente Si incrociano I giocatori Vinceva lo stesso Quindi anche se Metteva Furlani in porta Metteva Qualsiasi altro Giocatore Qui Ragazzi Vinceva lo stesso Con i giocatori Primavera Ha giocato contro Ha giocato contro Il Palermo Stava perdendo Solo 3 a 0 Contro il Palermo Dopodiché Negli ultimi 5 minuti Gli ho fatto mettere I 3 attaccanti titolari In 5 minuti Ha fatto 10 tiri 5 in porta E Un gol Per farvi capire Quindi Immaginate contro Chi stavo Contro chi Stavamo Gareggiando Contro chi Stavamo In lotta A giocare Adesso Perché questo Modulo Funziona Perché vi spiego Come funziona Quando esce Football Manager Molti esperti Di Football Manager Cosa fanno Iniziano una carriera Salvano il punto Iniziale della carriera E vanno In queste impostazioni Ok Una volta entrati In queste impostazioni Fanno Faccio un esempio Ok La prima carriera Prendo il Catania Carico La prima stagione Inizio la prima stagione Carico dal punto iniziale Tolgo i salvataggi automatici E dico Di concentrare La palla A sinistra Dopodiché Non tocco più nulla Avanzano Senza simulare Si fanno proprio Tutta la carriera Velocizzando le partite Ma senza simularle E vedono quanti punti Hanno fatto Durante la stagione Fanno 70 punti Ok Ricaricano Il salvataggio iniziale E aggiungono A queste istruzioni Il Portate il pallone In aria Ok E in transizione Ci aggiungono Queste istruzioni E rifanno Di nuovo La stagione Invece di 80 punti Ne fanno 85 Ok Abbiamo fatto 85 punti Ricarichiamo Alla parte iniziale Ok Ricaricano Alla parte iniziale E dicono Invece di fare Lancia la bassa Proviamola Su caccia la corta Ok E fanno questo cambiamento Invece di mettere Non in possesso Così Lo mettiamo così Rifanno di nuovo La stagione E arrivano A 96 punti Ricaricano E vanno a cambiare Altre Altre impostazioni Finché non trovano La perfezione Non è che Tu rompi Il gioco Perché È un hack Tu trovi Le istruzioni Migliori Per ogni modulo Le carichi Te le importi Oppure le copi Tranquillamente E Lo scopo Di avere gli analisti Finisce Lo scopo Di avere gli analisti È inutile Perché È inutile Avere gli analisti Gli analisti Delle performance Perché Gli analisti Delle performance Sono quelli Che Ti dicono Nel centro dati Cosa funziona E cosa non funziona Se no Non ha senso Acquistarli Perché Se tutti quanti Siamo partiti Da zero E nel frattempo Gli analisti Ci dicevano I passaggi Ne fai Solo un tot Voi potete entrare Qui dentro E potete vedere La percentuale Di passaggi No 87% Quindi dicono Come posso fare Ad aumentare La percentuale Di passaggi Completati Dall'87 Al 90 Ok Provo A modificare Qualcosina Nella tattica Senza stravolgere In modo che Riesco Ad avere la perfezione Ma questa perfezione Con quegli analisti Non li avrai mai Quelli attuali Servono più o meno 7-8 stagioni Per avere un win rate Dell'86 90% Quello che è stato fatto Invece è partire Da zero a cento Come se avessi Avesse fatto Già dieci stagioni Grazie Tommy Grazie Grazie Tommy Quello che è stato fatto È praticamente Noi Mentre noi Cercavamo Di sistemare Il modulo Cercare di essere Ovviamente Ci sono persone Che sono rimaste In serie C Perché se non potevano Ricercare anche loro Perché le premesse Iniziali In privato erano Lo ricercate su internet Se non capite qualcosa Chiedete Se avete qualche problema A capire quella tattica Prendete spunto Ma non copiate Quindi ragazzi Olizeus Di zio Diego Io L'avete visto in live Cioè io C'ho un modulo Basissimo Ok Cioè Neanche così C'ho 4 istruzioni Su possesso 3 istruzioni Su non in possesso E 4 in transizione Che l'ho fatto Davanti ai vostri occhi E l'ho cambiato Davanti ai vostri occhi Mentre lui Ha preso quello E come se Avesse fatto 10 anni di carriera E l'analista Gli ha dato Tutta la perfezione Cioè lui È riuscito a studiare Bene quello Che gli ha detto L'analista Quindi è come Lui aveva Un modulo Con 99% Di win rate Ok Se voi startate Una carriera E cercate Quel video O comunque Cercate I vari video Che vi danno Una percentuale Di win rate Quasi vicino Al 100 Potete intraprendere Qualsiasi carriera Che vincerete Vincerete All'inizio Faticherete un po' Il tempo che si alza Un pochettino La felicità Negli spogliatoi Siete imbattibili Potete prendere Qualsiasi giocatore E fare anche Un mercato di merda Che riuscirete A acquistare Adesso Perché si ritrova Con Sanchez Perché si ritrova Con Vanderloy E soprattutto Perché li segna Faceva Adesso come potete Vedere C'è di nuovo Bua Perché ho caricato Un salvataggio precedente Ma perché Bua Gli faceva Così tanto bene E perché Poteva permettersi Di prendere Sanchez E si Pagava poco I contratti A parte Quello che penso Che non lo dirò In questa live Ma le persone Sanno cosa penso Quando tu Nel primo anno Vinci la Serie C E avevi già il Catania Vinci la Coppa Vinci la Supercoppa E non perdi E hai distrutto Praticamente I record Del Cesena Quindi sei andato A mettere Nei record societari Tutti quelli Del 2024 La popolarità Aumenta E quindi Un Sanchez Che da Foggia Non ci vuole venire Da lui si Quindi Anche gli acquisti Sono diventati Degli scam pazzeschi Vanderloy È un giocatore Del Brescia Non ci sarebbe Mai andato Al Catania Mai Ma neanche Ma neanche a pagarlo Falcao Lo trova Perché il signorino Ha trovato un modo Per scammare E adesso Lo facciamo vedere Cosa faceva Il signorino Il signorino Aveva sempre i soldi Per il budget In gaggi Perché faceva questo Metteva mondiale Ok In questo momento Lui ha messo mondiale E sta pagando Per Avere tutti i giocatori Tutta la conoscenza Di tutti i giocatori Quindi lui Riesce a sapere Che poteva Che ne so Prendere Falcao In serie B E non lo poteva prendere Perché ha vinto Tutte quelle coppe Tutte quelle vittorie Ma riesce a prendere Falcao Per il semplice fatto Che lui Fa questo bug Qual è il bug Mette mondiale Ricerca E dopo Rimette Italia In copp Funziona così Rimette Italia E avanza E non pagherà Un cazzo Di quello che ha messo Cioè lui Se mette mondiale Nella stessa giornata E poi ritorna su Italia Non paga nulla Quindi lui faceva Le ricerche così E scammava Anche su questo Vabbè Fa niente Lo faremo tutti Da ora in poi Però non andremo A utilizzare Quei moduli Perché se no Utilizziamo tutti i moduli Rotti Non ha senso Avere gli analisti Nessuno acquista Gli analisti E non vince Chi è più bravo Che ha l'intuizione Migliore Nelle tattiche Ma vince Chi ha copiato meglio Cioè Che cazzo di gusto C'è Ok Adesso Perché a Buali Sono arrivati 7 milioni Non mi esprimerò Su quello che penso Ma Sulla cosa Palese Che posso dirvi Ok La cosa palese Che posso dirvi È Se tu fai Overperformare Ovviamente Facendo vincere Coppe E non perdendo Mai una cazzo Di partita Cosa succede Le squadre avversarie Non vanno a vedere Quanti punti Overhaul Ha sul cross Sul dribbling Sulla marcatura Sui passaggi Ma il gioco È strutturato Su Le squadre Acquistano In base Alla media voto Ok Quella che c'è qui Se la media voto È alta La squadra Ok È strutturata A farti offerta A quel giocatore Perché sta performando bene E pensa indirettamente Che il giocatore Sia fortissimo Non che Bois Sia una merda Bois è cresciuto così Anche perché Ha vinto tutte quelle partite Quindi la sua velocità Nella crescita È È stata Overperformata Perché appunto Non ne ha persa una Per tutta la stagione Una con il Foggia Cioè Rendiamoci conto Ragazzi Che Se noi andiamo a vedere I risultati Sono 69 partite giocate Di cui 53 3 vittorie Di cui 11 pareggi Di cui 5 sconfitte Di queste 5 sconfitte Dovete Calcolare Una sconfitta In Coppa Italia In Serie B E una sconfitta Con il Foggia In realtà Quante partite Ha perso? 3 3 su 69 Qual è la percentuale? Il campionato Anche se adesso Siamo tornati indietro Lui già in questo momento Aveva segnato 46 Ma io Ricarico L'ultimo precedente Per farvi capire Guardate Aspettate un attimo Adesso Vi dirò Qual è la mia idea Per la questione Del Catania Guardate un po' Quanti gol Ha fatto in 31 partite 81 gol Fatti in 31 partite Adesso Quaini Vi ricordate Quaini Mentre io stavo zitto Al massimo L'attaccavo Nelle ultime 3 live Quaini Grandio Grande allenatore Bravo 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 Poi il merda Il mostro sono io Quaini Andiamo a vedere Quaini Signori Quaini Andiamo da Quaini Signori Quaini Questo è Quaini Signori 17 presenze 10 gol 3 assist Ma Ce ne sono Ci sono delle cose Davvero Scandalose Davvero Jacob Italiano Signori 23 anni 6 partite 3 assist Questo giocatore Ma Ce ne sono Quante ce ne sono Se voi andate a prendere Bozanai Il grande Bozanai Ha fatto 31 partite 11 gol 5 assist L'ho paragonato A Lo faccio vedere No Perché sennò Davvero Ve lo faccio vedere Perché sennò Voi dite Non ci credo Piero Non ci credo Tattiche Questa è la mia squadra No Zero Questo è Zero Ma a parte che sta Decrescendo Decrescendo Perché io Lo staff Non lo piglio Scam Però a parte Questo Se noi andiamo A paragonare I due giocatori E andiamo a vedere Sulle qualità Potete notare Che Bozanai È più bravo Sulla tecnica Ma su tutto il resto Zero Li piscia in testa No Sulla mentale E sulla fisica Che cazzo Ve lo dico a fare Ok Vi ricordo anche Che Bozanai È stato utilizzato Come mediano Ok Lui aveva tre mediani Non aveva tre centrocampisti Bozanai Non lo utilizzava Come trequartista Ok Lo metteva qui Qui Il mediano Non sta sempre Avanti in attacco Il mediano Come cazzo È possibile Che Bozanai Fa undici gol Ma Soprattutto Cosa molto importante Vi ricordate Quando Ci diceva Beh Buah Sti cazzi di buah Io ho il trequartista Che mi sta funzionando Più il trequartista Sinistro Chi era? Era Celli Era Celli Celli Guardate un po' Celli in ventisette partite Fa due gol Undici assist Oddio Cos'è incredibile Allora andiamo A paragonare Con Rizzo Che è Un giocatore di merda No? Però andiamo a vedere Proprio nel Nel particolare No? Perché questo è un giocatore Di merda Signori È tanto giocatore Di merda Alcune Alcune statistiche Non sono sbloccate Ok? Su Celli Però bisogna vedere Quelle che Sono le Le statistiche Importanti Per quel ruolo Quindi I cross I passaggi Fa la finalizzazione Come potete vedere Non c'è così tanta Differenza Tra Rizzo E Celli No? Io credo che non ce ne sia Così tanta E se ce n'è È pochissima E vogliamo mettere Pure che è più forte Celli Mettendo le mani così Come cazzo è possibile 26 a 27 partite Io faccio 0 gol 2 assist Io faccio 3 assist E fa lui 11 gol Ok? Io ho paura Di perdermi qualcosa Adesso vado Su Discord Così almeno Ci sono anche ragazzi Che Vi possono dire Perché Io non Quando ho avuto La conferma Dovevo prendere Una decisione La decisione Era A parte la delusione E la rabbia Che ho adesso Perché la rabbia Non viene Da quello che ha fatto Perché ho provato anche Fino alle 6 del mattino Diocane Fino alle 6 del mattino A trovare una soluzione Per le sue bimbe minchiate Nonostante questo Sono stato trattato A pesci in faccia Per essere detto Che voglio essere La prima donna Che sono un mostro Che l'offeso Le persone si ammazzerebbero Per quella Per quella gazzetta Vittima del cazzo Vittima del cazzo Questo vuol dire Perché tu Fino adesso Sei stato Insieme Alle persone Che potevi prendere Per il culo Ma non puoi prendere Per culo me Perché io Non ti lecco il culo Per una sub Di livello 3 Hai capito Qual è la differenza Io non lecco il culo Per avere dei vantaggi Io sto con le persone Serie Sincere E non che scammano Perché hai rovinato Indirettamente Anche il mio lavoro Mi hai fatto perdere Giorni di lavoro Non te ne è fottuto Un cazzo Non ti sei permesso Neanche Di scrivere un messaggio In privato Sei uscito dal gruppo Telegram Solo perché i ragazzi Scherzavano con te Fine Vaffanculo Questa è la dimostrazione Delle persone Vediamo se c'ho il microfono Buongiorno Madonna Sano spaventi Buongiorno Ci sono Eccomi Mi sentite ragazzi Adesso Sì Spero si senta bene me Sì sì dai Non male Non è malissimo Sì ha sabotato tutto Perché Vi rispiego ragazzi Per chi non è avvezzo A football manager A parte il fatto che Domanda È un po' come Se tu Compri Formo 1 manager Ok Prendi tutti i piloti Forti Ok Prendi tutto lo staff Forte Vai su internet E ricerchi L'assetto migliore E ricerchi su internet Qual è la strategia migliore In determinate condizioni Stai facendo il manager Non credo Non credo È la stessa identica cosa Se poi tu Online Giochi online Con altri Che non fanno La tua stessa cosa Grazie a cazzo Vinci le gare Stessa cosa È così Stessa cosa È su football manager L'analista Piano piano Ti dice Guarda che in possesso Secondo me Non dovresti mettere Partite Palla a terra Dalla difesa Ma dovresti Concentrare il gioco Sulla fascia destra Perché il tuo terzino Destro è forte Bla 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 Invece lui Da 0 a 100 Aveva già 10 anni Di carriera E ha fatto il grande 6 a 0 Quaini Chiedo Chiedo Intervento 5 a 1 Del Catania Le squadre Che hanno affrontato lui E perdevano 5 a 0 5 a 1 Le ha distrutte Moralmente Ed è per quello Avete visto Il crotone Che non è andato In serie B Indirettamente Ha vantaggiato me Perché Ammazzando quelle squadre Distruggendo quelle squadre 4 a 0 4 a 1 5 a 1 Poi le affrontavo io E avevano il morale A pezzi E quindi riuscivo A vincere anch'io Quindi indirettamente Mi sono preso Anche un vantaggio io E io Quest'anno Sono Settimo Anche se poi Mi ha fatto La cazzata di Perina E mi ha fatto La lista di Millico E vabbè Facciamo finta Che l'ha fatto Per scherzo Ok E lì ho perso Alcuni punti Ma stranamente I miei giocatori Che ho dovuto sostituire Anche perché lui Doveva fare il giochettino Dello scherzo Ero solo a 4 punti Nonostante La La tattica 99% Di winrate Io ho avuto problemi Col portiere Perché è straniero Come mai Lui A prescindere A proprio A prescindere Da La tattica Il modulo E roba varia Lui prende Giocatori come Wadner Che non credo Giocasse in serie A No questo Questo sì Ma c'era un altro Che aveva preso Non mi ricordo Adesso chi era Chi è che aveva preso Spendiamo Nei trasferimenti Petcov Lui Questo qui Questo qui Che ha utilizzato Cinque volte L'ha fatto entrare Ha fatto pure un assist Come vai A lui prende Se è 90 Non ci faceva errori E roba Ma questa è La più cazzata Di tutte Di tutte Cioè non è quello Il problema Però appunto Ha avvantaggiato Anche indirettamente A me Perché squadre Come il Sassuolo Come potrete vedere Poi nella puntata Di domani Dopodomani Perché ci saranno Tranne giovedì Non ci sarò Poi si riprenderà Venerdì Però nella puntata Di domani Dopodomani Vi farò vedere Appunto Che il Sassuolo Si ripiglia Appena Toglieremo lui Dalla carriera Si ripiglia Vedrete come si ripiglia Il Sassuolo Perché indirettamente Appunto Ha creato Scompiglio Nelle classifiche Per quale motivo Ammazzi quella Quella lì è sotto Con il morale basso Ok Poi affronta Una squadra Più cessa Però L'ha sfondata 5 a 0 E quella squadra Fa difficoltà A battere anche Quella squadra Più cessa E quindi vedete Una volta che Sassuolo vince Una volta che perde Una volta che pareggia Stessa cosa per il Brescia E nessuna squadra È continua Come il Benevento Che era crollato Lo scorso anno In Serie C Gli altri si sono fatti Nel culo A trovare Fino alle 5 del mattino A trovare La tattica E roba varia Lui Copia e incolla Allenamenti Acquisto i giocatori Perché tanto muovi Inco le coppe Gliel'ho fatto provare In privato ragazzi Non riusciva a perdere Neanche mettendo Un modulo diverso Ormai Perché ormai Si è preso Così tanto vantaggio Anche per i giocatori Come Sanchez Che non gli sarebbero Mai andati Ragazzi Io ho scoperto Che in questa stagione Le ho fatto vedere Anche ai ragazzi Ma me l'ha detto Me l'ha detto Appunto lo staff Che L'osservatore Mi ha appena trovato È il Sharawi No? Guardate il Sharawi C'è il Sharawi Se io vado su contratto E chiedo l'ingaggio E lui vuole venire E faccio Guardate quanto cazzo Mi chiede Possibile che Sanchez Ti chiede Solo 99.000 Perché io non ho vinto Un cazzo E mi chiede Tot Se avessi vinto Le coppe sue Grazie al cazzo Mi chiede due spiccioli Per venire nella mia squadra Questo è l'amico di Pagliuzza Probabilmente O è lui Semplicemente L'ho pensato anch'io Potrebbe essere Però sì Ti volevo invitare A leggere tutti i suoi commenti Visto che a quanto pare Vabbè Leggi tu Dico Allora Ascoltami Ross Amico di Pagliuzza La questione è questa A prescindere dal fatto Dei cheat O non cheat Ok La serie è iniziata Ragazzi Siamo noi Siamo noi gli allenatori A perdere Perché non è la prima volta Perchè non è la prima volta Nei giochi E colpa mia Che poi Lo so andato a mettere Nella serie Perché l'ha già fatto In passato E non a caso Non a caso Visto che Fa venire gli amici A scrivere Non a caso Anche altre persone Su web Scrivono che Usai cheat Io non l'ho detto Ma gli altri Lo dicono Se vuoi Li invitiamo Quelle persone Facciamo vedere Quindi Meglio che stai zitto Ok Meglio che stai zitto Più che altro Più che altro Si vede un cambio Repentino Dalla Dalla Cioè Il modulo Era Contro di terra Diverso Poi La partita dopo Contro di potenza Diventa quel modulo lì E rimane quel modulo lì Da lì Fino alla fine Della stagione Fino alla fine Di quando appunto È successo Quello che è successo Adesso Allora Ross Un attimo Scusami Scusami Mauri Ross L'inversione di tendenza È proprio evidente Continua Scusa Ross Non sei mai stato Nelle mie live All'improvviso Appari Così Parlando di cheat Io ho mai pronunciato Cheat in live Queste sono le stesse cose Che ha scritto lui In privato Quindi posso immaginare Che qualcuno Ha mandato da lui Fine Oh che se non sei proprio tu Capisci qual è La questione Non nessuno Ha parlato di cheat Se non hai visto la serie È Per cinque volte C'erano dei regolamenti Ed è stato preso Già cinque volte A guardare la live Quando da regolamento Non si doveva fare Non è questione di cheat O non cheat Nessuno ha parlato di cheat Ed è diffamazione Stu caz Nessuno ha parlato di cheat Se tu sturgui caz Scusa Scusa le offese Ma se tu mi dici Cose che non ho detto Sei un testa di cazzo Le offese te le devo dire Perché io non ho detto quello Basterebbe Stapparsi quelle orecchie di merda Vai insieme al tuo amico A fare ingegneria Chissà riesce a sbloccarti qualcosa Anche se non Mi sa che non funziona bene St'ingegneria Non funziona bene Perché Pieruccio Pieruccio mi pare evidente Che è qui solo per provocare Suona tanto di strategia Studiata Tavolino apposta Perché lui sa Che se ti stuzzica Tu ti innervosisci Sta cercando di farti dire qualcosa Che non dovresti dire in live Lo stanno facendo Secondo me lo puoi anche lasciare A me non mi frega Gagnelle Persone della chat Io faccio vedere questa cosa Perché la persona Addetta Mi ha detto di prenderle Per prendere per il culo Le persone della mia live E c'è Maurizio C'è Diego E ci sono altre Luca Che è anche qui In questo momento Che sono testimoni Che voleva Faceva Lui ha chiesto scusa Per quello che ha fatto Perché sapeva Voglio far vedere Voglio far vedere A costo di prendermi Una denuncia Voglio far vedere i messaggi Devo continuare Vedi che vado nel profondo Vado proprio nello specifico Non stuzzicate il cane che dorme Perché già mai avete fatto un danno Sul lavoro Ok? Quindi non lo stuzzicate Perché se devo diffamare Diffamo per bene E faccio vedere Quindi silenzio E prendetevi la merda Vaffanculo Tra l'altro La persona Interessata Che ora sta cercando Appunto di scolparsi Con questi mezzucci Ha confermato Lei stessa Che ha fatto quella cosa Dicendo Non sapevo Però Lui è stato con noi Una nottata intera E ci abbiamo parlato E lui era d'accordo con noi Che il modulo fosse rotto Che il gioco si rompeva In quel modo C'è L'ha detto stesso lui Se poi adesso è arrabbiato Voglio trovare un modo Per Ovviare al problema O magari far dire Di capire qualcosa Che non deve dire In modo che poi può Appellarsi a quella cosa Mi sembra sbagliato Perché sinceramente Lui stesso di persona Ce l'ha detto Quando eravamo Diciamo ancora In rapporti Decenti A me che cazzo A me cosa viene In tasca Venire in live E far vedere A me non mi viene nulla In tasca Ma io non posso Andare in live Nella prossima live Per la bella faccia sua Che non sa perdere Andare in live E far finta di nulla Ok? Non posso far finta di nulla Io non le prendo Per quello Le persone Io ho pochi spettatori Perché ho sempre detto Quella fottuta verità Che le persone Non vogliono sentirsi dire Io le persone Le ho perse Per dire la verità E io le persone Per culo Non le piglio Come voleva far lui Che doveva far la parte Di perdere Che trovava problemi O si doveva fare esonerare E non sapeva perché Era stato esonerato Ok? Io per culo Le persone che mi seguono Ho cercato Ho cercato Ho cercato tutte le scuse Di sto mondo Ho cercato Mi sembra Non lo so Quindi Quindi Io sto facendo vedere I ragazzi La motivazione Del perché Non ci sarà più Il Catania È quella persona Non sto dicendo Che utilizzava cheat Ho spiegato anche Basterebbe appunto Utilizzare un rubinetto Dove esce acqua Non è che ci vuole tanto Esturarle Quelle merde di vecchie Che ho appunto detto È un cheat No Non è un cheat Ma Ho spiegato Come fanno Gli esperti di Football Manager A trovare il modulo perfetto E l'ho spiegato prima Iniziano la carriera Fanno la prima stagione Modificano determinati parametri Poi ritornano indietro L'ho spiegato Basterebbe attivarle Quelle orecchie di merda Ok? Invece di attaccare me Dovreste essere Schifati per quello E le persone Che giocano in quel modo Ok? Non con me Che dico la verità La verità è scomoda Ok? La verità fa schifo Fa schifo Perché vi piace essere Presi per il culo Quello è il problema Siete amici di persone false Di merda Quello siete Non insultate Insulto io Le persone che meritano Di essere insultate Voi non mettetevi Al loro livello Sono io che mi devo Mettere al loro livello Adesso Perché io so Cosa ho fatto Ok? Eh? Dovrei chiedere Dovrei chiedere io I danni Ok? Dei giorni di lavoro Che non sono andato Le sei del mattino Con lui E gli altri ragazzi Per trovare una soluzione E se non avesse fatto Il pezzo di merda Oggi Avrei già chiuso Il discorso E forse non avrei neanche fatto Ma ieri mi ha attaccato Nuovamente in privato Mi ha bannato su Instagram Perché deve fare le sue storiette Perché deve far vedere Che lui non è vero Che fa quello Come ha fatto con gli altri Quando mi Mi contattava in privato Pierre Puoi non fare questo Con questa persona Perché questa persona Mi accusa di cheat Pierre per favore Puoi Segnalare questo video Di TikTok Perché mi diffamano Chissà perché Porco Dio Chissà perché Poi ci facciamo due parlate Con quelli che L'accusavano di cheat Ok Se vogliamo fare Le guerre Se vogliamo fare le guerre Poi parliamo Con quelle persone Perché le conosco Quelle persone E andiamo a fondo Ok Quindi silenzio Muto E vai a casa E chiaramente Un provocatore È venuto qui Per farti Per farti arrabbiare Pierre È lui Lascia per È lui È il testa di cazzo O è l'amico suo O è l'amico che gli ha dato il modulo O è l'amico suo O proprio lui con un altro account Ma sicuramente È fatto tutto a posta È tutto su Se lo saranno studiato ad arte prima Lo so Lo so Ma tranquillo Visto che ha Il coraggio di Di fare queste cose Non la faccio finire qui Non la faccio finire qui Ti è piaciuto così Va bene Ovviamente la prossima cosa Sarà fatto fuori dalla live Questo giustamente era necessario Perché Tu non è che domani puoi cominciare la live E non c'è più il Catania E poi E dove è il Catania Ah boh Che ne so No dovevo dire Dovevo rispondere così Ah boh che ne so È andato in vacanza Perché lui adesso non ha più tempo di venire Fino all'altro ieri Non vedeva l'ora di vincere Madonna mia Devo vincere per forza E roba varia Poi all'improvviso sparisce Devo dire boh Non lo so Dove il Catania E poi tornava col Messina Così a caso Porca miseria No poi tra l'altro Sarebbe stato brutto Perché se Io dicevo Boh ragazzi Andate in vacanza E roba varia Poi lui saliva in Serie A Io ipoteticamente andavo in Serie A Ok Battevo il Catania Dovevo sentirmi dire Dalle persone in chat Sì ma hai battuto il Catania Solo perché non c'è Giovanni Ok Scusa No Una cosa Scusa Ross Una domanda Noi lo sappiamo che il modulo su Youtube Che è di Lucullus Che è stato fatto Ma l'ha sentito L'abbiamo capito Però Scusa un attimo Una cosa è Se Pagliuzza Prende Il modulo E lo azzecca A prima volta Scusate non lo devo nominare Perdonatemi Se quella persona appunto Trova il modulo E improvvisamente incarna Il modulo giusto Che la squadra gira perfetto Chi gli dice niente L'ha inventato lui Ma se tu vai a prendere pari pari Delle tattiche prese su Youtube E te le applici al tuo modulo Che ti fanno stravincere Nel senso a giocare Mentre appunto si è detto Che si voleva fare tutti insieme Moduli inventati da noi Ma lui non c'era Capisci Se non è Giovanni Se non è Giovanni Lui non c'era Perché è la prima volta Che lo vedo leggere C'è un regolamento Abbiamo messo un regolamento Apposta per divertirci Perché se tutti Ti mettevamo il modulo 99% di win rate Mi dici che cazzo di serie In live facevo vedere Ai miei spettatori Cosa facevo Cosa li facevo vedere Tanto valeva Prendere le squadre In Serie A E facevi già Vi giocavate la Serie A Vi giocavate la Champions Direttamente A questo punto Gli eravate già Con le squadre forti Perché appunto Quello fa Ti fa overperformare La squadra E tra l'altro Lo direi pure dopo tu O rovinando Le altre squadre Perché appunto Se le distruggi Con tutti quei gol Loro si demoralizzano Involutamente ha favorito anche te Perché anche tu Ti sei arrivato più in alto Che non ci dovevi neanche arrivare Cioè quindi Giunga ha rovinato un po' Per tutti l'esperienza Quello è Rispondo a Manfred Non era detto Nello specifico Però Piero Ha sempre detto Se volete prendere spunto Da internet Potete farlo Ma non copiare Paro paro Scusatemi Spunto Emetteteci Del vostro Perché siete voi Gli allenatori Perché se copi Paro paro Non sei tu L'allenatore Ma è appunto A parte che c'erano Due tre regolamenti E sono sempre stati Detti E tra l'altro Di quei regolamenti Era non guardare la live Per cinque volte Sgamato il live Che guardava la live Vabbè No ma io guardavo Solo la chat Che cosa ti importa Guardare la chat Tu pensa Stai in live E vabbè Ok Allora Sgamio un'altra volta Che guarda la live Grazie a Cale Ma porco Dio Due regolamenti Stanno Se i regolamenti Non fanno per te Non ci partecipa E non è quello Che non è l'unica cosa Che appunto Non ha seguito Come regolamento Quindi non è che Ho tirato una botta A telecamera Qua Ho disaccellulato tutto E questo Cioè La questione Che nessuno ha dato Del citero Ma è quasi come Utilizzarli cheat Ma non è un cheat Non è un cheat Che scarichi qualcosa Però appunto Si perde il senso Della bellezza Voi lo sapete No in qualsiasi serie Che ho portato Mettermi la difficoltà Ok Quindi Il mio scopo Era vincere No il mio scopo Appunto è Appunto Mettermi delle difficoltà E aver messo lui Nella mia serie Eccetera eccetera Appunto perché Era una persona competitiva Ma Competitiva Che doveva essere Leale Sapeva Cosa non doveva fare O fare Un fatto è che mi dice Il mio amico Mi ha dato Dei consigli Un fatto è che Il tuo amico Ti ha dato la lista Delle cose che funzionano Con il win rate a 99 Che cazzo di senso ha E allora Scusate Se al posto suo Ci fosse stato un altro Avrebbe avuto Gli stessi risultati Se al posto del Del Catania Che gli abbiamo Abbiamo dato la squadra Più forte Avrebbe preso Un'altra squadra Il Catani Setta E metteva quel modulo Non c'era bisogno Di lui Che cazzo di senso ha Che giochi Cosa giochi Cosa giochi Che c'era lui Non c'era lui O c'era il Catania Non c'era il Catania Basta che copi quel modulo E hai fatto Che cazzo di gusto c'è Quindi non è quello Il senso del cheat Non cheat La questione è Le persone devono vedere Qualcosa di vero Non le falsità Perché deve fare Il maestro di sto cazzo Ok Speriamo che si è capito Cioè Se io In teoria Ci sarà la possibilità Io devo entrare Col potenza Io che faccio Entro col potenza Mi scarico le tattiche Mi metto tutto Con il modulo lì E comincio a giocare Che succede Che farò risultati Che non devo fare Cioè Boh E poi Io stavo spiegando Semplicemente Qual era la cosa Che aveva distrutto Il gioco E ho spiegato anche Che non era un cheat Arriva questo Perché ti deve Ti deve dire le puttanate Perché è arrivato a metà live Oppure perché deve Deve farlo Perché deve mettere in bocca Parole che non ho detto E' stato mandato Si usaci Che è stato mandato Lo so che è stato mandato Ma le persone Hanno visto Con i loro occhi Se volete vedere altro Tranquilli Poi le facciamo uscire Le altre cose Se si continua Le facciamo uscire Ma non solo quelle Le facciamo uscire tante Senza problemi C'ho tutto Tranquillo C'ho la cartella Vuoi vedere la cartellina Ora facciamo vedere Tutte le cartelline Belle belle fatte Ok Perché purtroppo Lui ti conosce Sa che sei fumantino Lo sa che è giusto Lo sa che sei fumantino Però ha sottovalutato La persona Perché pensava Di prendere per culo Le persone che guardavano Compreso me Ma non ci è riuscito Mi dispiace Non sei con gli streamer Ticchiosi Mi dispiace Ok Qua ci sta un pelo Più di intelligenza Chiedo scusa Sì esatto Marchino Sì Però non ho capito Una cosa sugli acquisti In pratica Vincendo la serie C E la coppa Italia E la super coppa Aggiungiamo Sono tre coppe Si è boostato La reputazione E quindi Sì Praticamente Vi spiego Quando tu vinci Una coppa Dietro l'altra E hai Batti dei record E nel gioco Sulla società Ti fa vedere I vari record Di vittorie consecutive E roba Ragazzi Quello aveva 32 vittorie consecutive Senza perdere Cioè Col Catania Cioè Né che ha fatto 12 sconfitte In questa stagione Quello doveva stare insieme A me Al massimo Non lì No ragazzi Se no metto la chat Solo sub E la finiamo qui Ok Metto la chat Solo sub E la finiamo qui Ross Io penso di essere stato chiaro Se lo faccio Col Modena In sette Stagioni consecutive Se vuoi Cosa Cosa Ho capito Che la tattica Non è tutto Ross Ma dove cazzo è Dove abiti Ho capito Che la tattica Non è tutto E lo scopo E il regolamento Della serie Che non è stato preso Ok Che non è stato Colto Che non è stato A regolamento La vogliamo finire O devo O devo continuare Finisci Ma non ha capito Non ha capito Non è che non ha capito Lo fa apposta Lo fa apposta Sì lo fa apposta Però È arrivato il maestro Di sto cazzo Sono buono Pure io una volta Che leggo su internet I vari moduli E roba varie Li so a memoria Li vado a mettere Aumento la fiducia Della squadra Cazzo Ma io non lo so Davvero Cioè lui Non sta dicendo Che quel modulo Non si può mettere Perché è un È un citto sul gioco Come tipo per esempio Nei giochi di guerra Che ti fanno Per esempio Gli headshot È un modulo Che esiste Che si può usare Per avere quelli Unirate Il problema È che qui Nella serie Hanno state messe Determinate regole Perché si voleva fare Una cosa Che un uomo creava La propria squadra La propria lore Il proprio modulo E si cresceva tutti insieme Cioè quello è il fatto Non è che non si può usare Quel modulo Ci si era messi d'accordo Di fare in quel modo E lui invece Volendo vincere Ha fatto in un altro modo E quello è Non è che Bisogna essere esperti Non esperti di FM Cioè capito E quello è il fatto Ah Ross Ho capito che sei bravo su FM Ross Scusa Pier Però c'è Il fatto è quello Lui ha messo in modo Che non Noi l'abbiamo a fare In modo diverso Tutto qui Quello è Ross Se tu davvero Non fai parte Di quella persona O non sei amico Quella persona Se te l'ha detto Oppure se lo Quella persona Te lo può confermare In privato Ha provato a mettere Qualsiasi modulo E qualsiasi tattica Vinceva lo stesso Vinceva lo stesso Ma anche con i giocatori Primavera Vinceva Ok Quindi sto dicendo Che la questione è Che si è preso Un vantaggio Ok Perché il regolamento Diceva Ragazzi Non prendete Su internet I moduli Già con il 99% Di win rate Se no Non ha senso Il gioco Troviamolo noi Creiamo la nostra tattica E dicevo Io creo la tattica PDK Tu crei la tattica Quello Ok Non sto smerdando nessuno Finché non sia arrivato tu A dire che lo stavo smerdando Perché stavo spiegando Ai ragazzi Semplicemente La tattica Come funzionava E come trovavano Quella tattica Che funzionava Al 99% Stop Non stavo dicendo Nient'altro È normale Che se Tu prendi Quella tattica Già che funziona E non conosci il gioco Che dovresti avere Dei problemi E ti funziona Quella tattica Che c'era lui O c'eri tu O c'era Breccio O c'era Maurizio Si è perso Lo scopo Ok Un fatto è Giocarlo in privato Un fatto è Giocarlo in pubblico La serie deve essere Fruibile Per la persona che segue Ok Io non credo che Una persona come Ross Guarderebbe Una carriera Dove Si Prendi una squadra Di serie C E senza problemi 5 a 1 4 a 0 3 a 0 5 a 0 Troppo fo Che divertimento La vedresti una serie così Perché quello Sei andato a copiare Le tattiche Tu la vedresti Una serie così Che sai già Che vince la serie C Che vince già la serie B Aspetta da notare Si parla di gente che Gioca per la prima volta FM Non è come Ross Che appunto Lui è esperto Quindi sa cosa fare Si parla di una persona Nuova su FM Forse questo passaggio Manca eh Perché vedo che dice Smerdare pubblicamente Non si smerda pubblicamente Semplicemente De Pier non può Non può Continuare una serie Togliere il Catania E fare finta Che non sia successo niente Deve spiegare La gente Parla delle domande Ma poi scusate Ross Ma devo prendermela Per il culo Sempre io Devo sempre trovare Un modo per salvare Il culo alle persone A me chi salva il culo Scusatemi Prima cosa Seconda cosa Seconda cosa I giorni che non sono andato In live Ho fatto le sedi Il mattino Per aiutare lui Ad uscirne pulito Dopo che ha fatto quella cosa Se lo sapeva Non lo sapeva Non me ne fotte un cazzo Il regolamento Era semplice E bastava che Attivava due neuroni Per non farsi Dire Dall'ipotetico amico Tutta la tattica Da mettere No Ok Perché si era detto Ragazzi Un fatto è Farvi aiutare Eccetera eccetera Ma un fatto è Copia e incollare Ok Vi siete aiutati Tra di voi Tutti Che quante volte Avete aiutato Avete aiutato Come si chiama Scusa Luca O quante volte Pure io Anche se non sono andato Mi hai dato una mano Pure a me A creare le tattiche Aiutare Cioè Quello si può fare Nessuno ha mai detto niente Ma poi Appunto Visto che era la prima volta Gli abbiamo fatto prendere Una squadra Forte Per aiutarlo Non gli abbiamo mai Negato Un aiuto Nessuno degli altri Partecipanti Chi più Poi meno esperto Non gli è stato mai Negato L'aiuto Ma no Perché si perde Il senso Di quella cosa Che volevo far divertire I ragazzi Sia quelli che partecipavano Che guardavano Se io Se tutti quanti Avremmo messo Le tattiche sgravate Che cosa Come finiva Sta serie La serie finiva Con Dopo tre stagioni Eravamo tutti in serie A E vinceva Chi aveva la tattica migliore Sgravata Ti hanno copiato Fine Quello Finiva così Non era bello Quando valeva Cominciare in serie A Con le squadre forti A sto punto Gli altri Gli altri Sono stronzi Che sono rimasti in serie C Perché sono stati leali Sono stronzi Mentre lui è pulito E troppo Ho dovuto spiegare Il perché Perché io Nelle prossime live Non posso Non posso dire Boh non lo so Che fino ha fatto Gliel'avevo detto Lui aveva anche accettato Oggi Mi fate incazzare Scusatemi eh Se mi fate incazzare Io le cose le dico Perché nonostante Uno ha perso Giorni di lavoro Per le bimbe minchiate Eh Se ne esce dal gruppo Nonostante Nessuno le abbia fatto nulla Mi viene ad offendere In privato Dicendo che sono Una persona Così e colì Senza andare oltre Pure E io dovrei andare in live Per pararti il culo Con il cazzo Con il cazzo Diffamazione Va bene Ti sto diffamando Va bene Denunciami Non è Non è diffamazione Tra l'altro Quindi Non è Non è neanche Lontanamente Diffamazione La gente non sa Cosa è la diffamazione Poi presento il conto Delle giornate che non ho lavorato La gente non sa Cos'è la diffamazione Per quello Quello è il problema Diffamazione Una persona che ha accettato Di partecipare a una serie Ha accettato di Mostrarsi in live Ok Perché voleva attivare Anche la telecamera Ha fatto conoscere Se stesso È sul web Quindi quello che dico io Sul web Non lo sto dicendo A un privato Lo sto dicendo A qualcuno con un profilo Instagram Lo sto dicendo A qualcuno che è entrato Nelle mie live Che sono Che è il mio lavoro Quindi io posso dire Quello che cazzo voglio Ok Vai Dal momento in cui Ha deciso di far parte Della serie Lui si è esposto Appunto a questa cosa Che Se fa una cosa sbagliata Purtroppo Se ti va a danneggiare Sei costretto A fare Questo tipo di situazione Cioè Non è che Non ci sono Perché anche tipo Il ragazzo che contestava Dice Non conosco I vostri segolamenti interni A parte che Se seguendo le live Piero lo ha sempre detto Tante volte Quali sono le regole Seconda cosa Appunto Non sapendo i regolamenti Cioè Lo stesso ragazzo Lo stesso ragazzo Sempre lui Sì Non conosco I vostri segolamenti interni Lo so Il fatto è che Se giustamente A parte che poi C'è anche il comando Bravo Cioè Se lui si metteva Cioè In una sua live Diceva ragazzi Io ci faccio una carina Su FM Metteva il modulo sgravato E vinceva tutto Bravissimo Opposto per lui Ma se qui si sono messe Delle regole diverse E soprattutto Sulla live di Pierre Ci sono Siamo detto Ragazzi Non fate così Così e così E poi si fa diversamente E Pierre deve anche Perdere dei giorni di lavoro Per causa di questa cosa Perdere tempo Che può dedicare A altro Perché abbiamo tutti i problemi Abbiamo altro da fare Cioè Si permette che Li rode un pochino il culo Perché mo Si deve andare sempre Giustamente A parare il culo A una persona Però pensate pure a Pierre Se siete qua Se lo siete per Pierre Porca puttana Ogni cazzo di volta So io che me lo devo prendere Per il culo E basta E basta Se io poi devo nascondere La verità Le persone che mi supportano Quelle cose di Bullone No Quelle cose no 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 dai No ragazzi Va bene Mi hanno fatto girare Di coglioni Però voi Cercate di essere Superi a me Almeno No 32 vittorie Ma credo anche di più Pittolollo Senza perdere Sono molte di più Nel Nel primo anno Ha perso una partita Contro di me Poi tutto il resto Non ha mai perso In serie B In serie B La prima sconfitta Gli è arrivata Al Il 24 settembre Capite bene ragazzi Molto di più Però A prescindere da questo Ragazzi Volevo sottolineare Che la parte finale Di quel regolamento L'ho aggiunto adesso In modo che C'è anche scritto Per le prossime persone Che non possono dire Non lo so Prima Quell'ultimo pezzettino Non c'era scritto Ma l'ho detto In privato Però per evitare Qualsiasi cosa L'ho aggiunta anche lì Quella era una cosa Che non doveva essere Letta dalla chat Ovvero Non trovate Le tattiche Da internet Roba varia Cioè Le persone dicono Allora su FM Si può trovare La tattica su internet E perdono E perdono quella Che è La loro esperienza Di gioco Perché devono andare A cercare su internet Io non voglio rovinare L'esperienza di gioco Delle persone Se non sanno Che ci sono Quei moduli 99% Di vittoria È meglio Che non lo sappiano Perché se no Ci rovinano L'esperienza di gioco Ho detto Evitiamo di scriverlo Ma l'ho detto In privato Ma poi ci vuole pure Che lo dico Ma che senso ha Per farti un esempio C'è Diego L'allenatore del Gubbio Che Lo ha detto più volte Tu li conosco Con i moduli Però mi sono mai Sognato Di andare a usarli Cioè Comunque Lo conoscono Cioè Li conoscono i moduli Quindi non è che Non è che sono cose Che non si conoscono Che ci sono persone Comunque Il Paiuzza ha cominciato da poco Ma gli altri giocavano Comunque il FM Già per i fatti loro Cioè Bisogna stupenzarci un attimo Quello è semplicemente Non è che Ammazzato qualcuno Io sono Semplicemente Incazzato Perché nonostante Io ho perso Giorni Ore Fino alle 6 del mattino Per trovare una soluzione Eccetera eccetera Sono Pure stato detto Peste e corno Capito qual è il problema Quindi oggi arrivo in live Un pochettino dispettoso Capite bene Perché io conosco Il soggetto Ieri ha trovato La scusa del Che il pezzettino Della gazzetta Lì in basso Era offensivo Che le persone Si ammazzano Per aver scritto Me lo ha chiesto A un amico Perché doveva bannarmi Perché poi su Instagram Deve fare le storie L con È tutto falso E roba varie Io l'ho mostrato Con i vostri occhi Andate a ricercare 433 Modulo Zidane Che rompe il gioco E andate a vedere Cosa ha fatto Fine Non devo far vedere Nient'altro Prima hai fatto vedere La sua squadra Se andavi a vedere La sua squadra C'erano tutti Con la Come si chiama Con il morale Al massimo Tutti c'erano Sopra la media Del 7 Ma grazie Quando vinci Tutte quelle partite E appunto Cioè quindi Quello va a creare Giustamente Quando la squadra In forma S'FM Cioè il morale È alto Ti gioca È sempre stato così Sì appunto Allora Facciamo ipoteticamente Pitto Lollo Facciamo Ecco perché poi Non capisco Facciamo ipoteticamente Che Io non l'avessi detto Facciamo finta Ma poi ipoteticamente Io non ho detto Che bisognava copiare Ma ci vuole Che lo dicevo Cioè proprio tu Mentalmente Non dici Vabbè ma se copio Questo 99 Funziona E se non lo fanno Neanche Non lo fanno gli altri Ho vinto io Cioè ma che Cioè non avrebbe Giocando con quel modulo Fai 116 punti Con una squadra Neopromossa Appena Il morale Si alza Fine Niente di più Niente di meno Ragazzi Guardate il video Ci sono gli esempi Di squadre da retrocessione Di serie A Che vincono il campionato Basta guardare quel video Ragazzi I manageriali Sono così Una volta che trovi La cosa perfetta Come su form 1 manager Eccetera eccetera Se poi li vai a ricercare Velocizzi il tempo Velocizzi il tempo Non ti diverti più Ti rompi i coglioni Perdi quell'esperienza La gente purtroppo Non capisce Che non è come giocare a FIFA Che appunto Tutto controlli Il giocatore Sono comunque Delle simulazioni Di partite Che è ben diverso Le puoi indirizzare Le simulazioni Ovviamente Il problema è sempre Ovviamente Ricercato in questa carriera In questa serie Che sta facendo Pierre Al di fuori Non è un problema Perché in privato Fate quello che volete Non è che Pierre Dice quel modulo Non va usato Perché se no Siete degli scammoni Siete dei cheater No E il problema è in questa serie Bimbo Ripeto Pure se metto la chat Con i sub Poi comunque scrivi lo stesso Quindi non potrei limitarti La questione Ripeto Non è Quello La questione era Avvertirvi Di cosa è successo Perché io non sto zitto Nel senso che Non posso dirvi una bugia Io non so persona Che dice bugia Non ce la faccio Ok Anche se Devo dire una cosa spiacevole Per me io la dico Quante volte è successo in live Quante volte ho perso Delle persone in live Perché ho detto Delle cose che non dovevano Essere dette Sempre Oh E quindi perché Perché io devo parare Il culo a uno E mi ha fatto perdere Anche delle giornate di lavoro Ok Devo dire la verità Alle persone che Almeno hanno fiducia in me Perché se quelle persone Perdono fiducia in me Eh Ho perso tutto Quindi Devo per forza Dirle le cose come stanno Che era Pro Ho detto anche Che ha avvantaggiato me Io Sono andato in serie In serie B Perché ha avvantaggiato anche me Sto in serie B In quella posizione Perché ha avvantaggiato anche me Ma io non ho fatto nulla È lui che ha spianato La strada a me È un po' Come Che ne so Calciopoli La Juventus ha spianato la strada L'Inter è arrivata terza Ha vinto lo scudetto De Eh Lo scudetto arrivando terza Gli ha spianato la strada Perché ha fatto Quelle scorrettezze Ha la stessa cosa Sì Poi Chi lo dice Chi lo dice Chi lo dice Che Se non avesse utilizzato Quel modulo Il campionato di serie C Lo vinceva lui Io do anche il diritto di parola Io do anche il diritto di parola Se vuole passare Può passare In modo che Se vuole spiegare Spiega Nessuno gli dice nulla La questione è il comportamento Suo Che è sbagliato Nonostante uno ci ha perso ore Io c'ho una famiglia C'ho un figlio Quella sera finisco la live E sto fino alle 6 Finisco la live Non mi ricordo se era sabato Non mi ricordo quando è stato Ma io arrivo fino alle 6 del mattino Per provare a parare il culo a lui E questo è pure il grazie Mi devo sentire dire pure le cose Per parare il culo a lui A me chi muo fa fa? Allora vado in live E dico le cose come stanno Vaffanculo D'altronde Piero L'ho ampiamente previsto E attenzione Io fino alle 6 ci sono stato Per trovare una soluzione Come farlo uscire pulito Ma non che non l'avrei detto A dirlo l'avrei detto Ci sono i messaggi Testimoni Gli ho detto Le persone dovranno sapere Troviamo il modo Per non uscire sporco Che è diverso Sabato era Quello è Eh sì sì Poi Grazie apparizioni comunque Per la sab Scusami Che ero fomentato Da questa cosa Non ti ho letto E non ti ho ringraziato Per la sab Io dico solo Che piuttosto che comportarsi così Poteva fare La persona matura E avere un confronto in live Piuttosto che fare così Sembra proprio una bambinata Allora Il confronto Lo abbiamo avuto in privato Ok Ho capito che non lo stai dicendo a me Lo stai dicendo a lui Però il confronto Lo abbiamo avuto in privato E la cosa Non era andata neanche male Cioè ho detto Vedi un pochettino Che cazzo mi devi far fare Vedi che devo fare Le sei del mattino Invece di stare con mio figlio Riposarmi Devo stare qua Fino alle sei A trovare un modo Come Risolvere questa situazione Eh lo so ragazzi Scusatemi Scusatemi Sono Eh non Non pensavo Succedeva quella cosa Stranamente Però il modulo Lo cambia quando perde Con il foggia Però vabbè La questione Più che altro È che È il dopo Nonostante io Sono rimasto Fino alle sei A trovare un modo Eh E non l'abbiamo trovato Perché i suoi modi Erano I modi per prendere Per culo la chat I miei modi Che non venivano Approvati da me I miei modi Non funzionavano Cioè Non trovavo proprio Un modo Per poter Far giocare lui Ma non Farlo giocare Con Catania Cioè farlo giocare Ancora con il Catania Perché comunque Si era preso un vantaggio Si è preso dei titoli Che non doveva avere Eh Tante cose ragazzi Che su Football Manager Chi ne capisce Lo capisce La questione che mi fa Arrabbia È che nonostante Io spiego E dico Che non è Un Non è un Cazzo di coso Che si scarica Non è un hack Queste cose qui E spiego Del perché Ci sono determinati moduli Perché ci sono persone brave Che studiano tutto l'anno Si ristartano la carriera A roba varia Poi devo sentirmi dire Pure queste cose In più In privato Mi devo sentire dire Che sono un mostro Che prima Prendo il bene delle persone E poi li tratto di merda E scusatemi Dopo che ho perso Dei giorni di lavoro Per lui Mi devo sentire dire Pure queste cose E no Dopo mi devi bannare Perché su Instagram Probabilmente Devi fare le tue storiette Da Da persone Perché io Non ho fatto nulla Non è vero Ha detto così Perché così Lo so Lo so come funziona Perché l'ha già fatto con altri Il problema è che se una persona Ti dà un'opportunità Ma ti vuole dare un aiuto E vuole rispetto Poi Non lo puoi fare L'incazzato L'incazzato Se ti fai beccare E poi neanche dovrei Ma la questione Ma la questione è che Allora innanzitutto Non gli ho detto Figlio di puttana Bastardo Cose del genere Non ho detto nulla di che La questione più che altro è Questa live Deve essere un modo Per avvertirvi E trovare un modo Per penalizzare i Catani E dopo ci arriviamo La questione è che Mi sento anche Cornuto e mazziato Che poi Povero Catani Che c'entra Capito Come ho scoperto Dopo il 6 a 0 Con il Foggia Che ha fatto in serie C Mi punzava già Dopodiché Un giorno Ha streamato La schermata Su Discord Ho fatto lo screen E l'ho scoperto così Sono andato avanti Due live Tre live In queste tre live Se vedete le ultime tre live Io lo attacco tanto E inizio live Dico anche ragazzi Cambierò modulo Per contrastare Quello Lo dicevo Per farlo capire a lui Non per far capire a voi Capito Cambia quel cazzo di modulo Lo cambi quel cazzo di modulo Che ti ho scoperto Non l'ha capito Capito Niente Glielo ho dovuto dire Glielo ho dovuto dire Quando glielo ho detto Mi ha attaccato Dicendo Tu ti vuoi sentire prima donna Se non vinci Sbatti i piedi per terra Ma perché Se non ci fosse stato il Catania Io vincevo La serie B Mi dice una serie Dove ho vinto qualcosa Formula 1 23 22 21 Ho mai vinto qualcosa Su Formula 1 manager Quest'anno Ho mai vinto qualcosa Ma se mi aumento Le difficoltà apposta Perché è molto più bello Per lo spettatore Vedere uno che è in difficoltà Non uno che vince Con 40 punti In prima posizione Di distacco Dal secondo E già lì Una volta che Ha capito Che io potessi Prendere il controllo Della squadra Che ho visto Ogni minimo Particolare Della cosa Perché io posso Prendere il controllo Della sua squadra E una volta che Avevo lo screen Ho detto Ok Entro nella sua squadra E vado a vedere Anche le istruzioni Secondarie Eccetera Ed era tutto identico Allora lì Ho detto Guarda che Se tu mi offendi Ma guarda che Io so tutto Da tanto tempo Già Però io non posso Andar avanti così Perché io in live Non venivo neanche più Con la voglia di giocare Perché c'era lui Che scammava Ricordiamo Tra l'altro pure Che lui stesso Mentre ci parlavamo Ha detto Eh sì A un certo punto Però a me Mi è sembrato strano Che vincevo sempre Che persino lui Era sospettoso Ma quella sera Che gli ho fatto fare La prova con le primavere Tutte tutte stanche E ha perso solo 3 a 0 col modo Modena Lui ha detto Madonna Non ci posso creare Cioè io potevo anche Non acquistare No ragazzi Allora Vi chiedo scusa Stavi mutato No no Stava mutato Stava mutato Che era tardi Era in 6 del mattino Ok 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 Ma sì Ragazzi Ma che Cioè La questione è più che altro Che sono indispettito con lui Perché sono stato Cornuto e mazziato Capito Perché nonostante Io ringrazio sempre Per tutte le volte Che è venuto in live Perché mi ha fatto Anche un favore Io sto parlando Di un'altra cosa Non sto dicendo Se lui nel privato È una persona di merda O è una brava persona Su quello Non ci sono dubbi Per me Lui ha determinati problemi Non accetta le sconfitte Non accetta il perdere Ok E gli ho anche detto In privato In un vocale Che persone come lui Con quella mentalità Sono persone vincenti Perché trovi Qualsiasi modo Per poter Arrivare all'obiettivo Gliel'ho detto In un vocale Ok Quindi La questione Non è Mettere gogna Su di lui È informare le persone Perché indirettamente Tu hai fatto il danno E tu ma ti pigli il danno Perché io Non è che posso andare in live Così Ciao ragazzi No il Catania non c'è No Oh no il Catania non c'è No il Catania non c'è No il Catania Batto il Catania Eh ma perché non c'è pagliuzza Io mi devo prendere la merda Perché io ho battuto pagliuzza Perché non c'era No C'è un limite All'essere buone Scusatemi Però appunto La questione Era appunto Spiegare Determinati movimenti Poi ci sono state altre cose Non ho la certezza E non le dirò Ma c'ho degli screen Già questo dovrebbe dire tanto Non le dirò queste cose Non le dirò queste cose Perché quello è venuto dicendo Il fatto che io Ho detto che Ha messo le hack Che è diffamazione Non ho parlato di questo E alcune cose che so E ho scrinnato Eh Ok Non le farò vedere Non perché Le abbia utilizzato Ma ci sono delle cose Che ho scrinnato Che se entro io Succedono delle cose Se entra lui Succedono delle altre Se offre contratto con Vabbè Non voglio dire nulla Ok? Vi dico semplicemente Che il numero di staff Del 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 Catania Raggiunge quello Della Juventus Dell'Inter E del Milan Boh Vabbè Comunque Togliendo questo Sarà la fama Sarà la fama Sarà la fama Vogliamo dire Sarà la fama Ok Sarà la fama Diciamo che è la fama Va bene Adesso Adesso Cosa Volevo Appunto Dimostrare Con questo Cioè Dimostrare Perché Sono arrivato A fare questa live Perché Ho un'idea Per Risollevare la serie Dalle magagne Di una persona Che doveva Aiutarmi In live Venire a divertirsi Con noi Invece Ha distrutto tutto Ci ho pensato Anche a ricominciare Ma Secondo me Non sarebbe divertente Per Né per me Né per gli altri Che giocano Né per voi Alla fine Nel calcio Nella realtà Succedono queste cose E Chi ne prende vantaggio Indirettamente Sti cazzi C'è da dire Che gli scudetti E le varie coppe Non possono Essere ritirate Se non hai L'editor attivo Io l'editor attivo Non ce l'ho Perché Già sentivo Puzza di qualcosa Ci mancava solo L'editor Attivo E mo A posto Catania Stavo Barcellona Tanti colori Erano uguali Quindi Quindi Cosa vorrei fare Innanzitutto Oggi Debuttiamo Oggi Debuttiamo Nel senso che Oggi salutiamo Una volta per tutte Questa persona E non ne voglio più Sentire parlare Perché Dopo quello Che mi ha detto Anche in privato Può sparire Davanti alla mia vista Perché se fosse stato Un altro Adesso veniva su discord E chiedeva scusa Invece non l'ha fatto Anche per le offese Che ha fatto Invece non le chiede Le scuse Perché lui adesso Deve fare il post Il post con Mi stanno dicendo Questo Adesso sta Condattando gli amici Dicendo Puoi segnalare Questa live Puoi segnalare Questo video Tranquillo Io dopo la live Me lo salvo E lo posto Su pierdark live Segnala Io me lo tengo salvato Quando Se nel caso Ipoteticamente Ma non è possibile Che succeda Nel caso Venga buttato giù Lo ricarico Tanto che c'ho da perdere Non guadagno un cazzo Le persone devono sapere Visto che ti piace Buttare merda Ingiustamente Sulle persone Tranquillo Avrai quello che meriti Togliendo questo Vai di segnalazioni Vai Poi ne facciamo uscire Anche in una clip TikTok Appena sapremo Cosa scriverai Su Instagram Quello appunto Che Volevo dirvi E Innanzitutto Salutiamo una volta Per tutte Sta Persona Come si tira Come si tira fuori Sto coso Non si può tirare fuori Vediamo Come si toglieva La persona Ragazzi Qualcuno ci può aiutare In live Please Ho cambiato La password Eh sia chiaro Ho già cambiata Poi ve la ridarò Forse devi prendere Il controllo E fallo uscire No No mi sa che Io avevo l'opzione Per dire Si può Sposta la telecamera Ma no Qui sotto Non c'è nulla Cosa Ah perché dici Che c'è C'è scritto Aggiungi allenatore Aspetta Se seleziono Su di lui No Il nostro Che non può fare niente Ma Come cazzo si fa Vabbè A prescindere da questo Dopo lo faccio Dai Eh cosa Cosa vorrei fare Innanzitutto Nella live di domani Non ci sarà lui Come Come allenatore Quindi giocherà Ci avrà l'allenatore In seconda Finché non prenderà Un allenatore Da solo Eh Ovviamente Ovviamente L'allenatore del Catania Verrà Praticamente Tolto Dal calcio Quindi non lo Vedrete più Eh Ma Il Catania Indirettamente Ha preso un vantaggio Quindi quello che Si è pensato di fare È Adesso Si toglie L'allenatore Gli facciamo fare La stagione Finire la stagione Gli facciamo vincere Il campionato Dopodiché Finito Il campionato Nel momento In cui si apre Il mercato Prenderò Il controllo Del Catania Ok Ecco perché Non lo devo buttare fuori Perché devo prendere Il controllo Del Catania Giusto Prenderò Il controllo Del Catania Eh Prenderò Tutti i giocatori Che ha acquistato Dal momento In cui Ha perso Che ha cambiato Il modulo Quindi dopo aver perso 3 a 2 Con il Foggia Che cazzo 3 a 2 Con il modulo Con Con il Foggia Quindi lì cambia modulo Dall'in poi Tutti i giocatori Che ha acquistato Vanno venduti Venduti Regalati E deve farsi La serie A Senza Tutti Tutto quello Che ha acquistato Se riesce Ad acquistare Da solo Il Catania A salvarsi Ben venga Se no Quella è la penalità Che posso dargli Alla squadra No perché Vendere adesso Il giocatore È chiuso Il mercato Potrei fargli fare La recessione Consensuale Però Credo che La dirigenza Poi te ne blocchi Qualcuno Dopo 3-4 Recessioni Cioè Non te li fa Togliere tutti Devo tenere lui Come allenatore Fino alla fine Della stagione Perché appunto Poi devo Prendere il controllo E devo metterli in vendita No ho tolto l'editor Perché avevo paura Appunto Degli scam Non mi fidavo E ho avuto ragione Perché con l'editor Si possono vedere Determinate cose E si scamma la carriera E infatti Una volta Ho detto Ragazzi L'editor L'editor Non lo metto Perché c'è la possibilità Poi di fare Questo Questo E questo Quindi Se già dicevo quello Bisognava arrivarci A capire Che non bisognava Utilizzare i moduli Con win rate A 99 Però Che cosa Tra Tra l'altro E da Breccio Breccio Non devi offendere Ok Io mi sono lasciato andare Cose del genere Io sono coinvolto Da questa cosa Ci ho perso giorni Ci ho perso tempo Mi sono preso anche La merda In privato Quindi Ok Posso capire me Se mi incendio Un pochetto Ma non capisco voi Perché poi alla fine Voi se non lo sapevate Continuate a vedere L'ho voluto dire Per correttezza Adesso lo sapete Tenetevelo per voi Perché E Brutto Appunto Anche per lui Se sta vedendo la live Vedere quelle cose Il mio Glielo ho detto in privato Era un modo Chissà Questa esperienza La esperienza ti fa crescere E Inizia a giocare Onestamente Questo è Vabbè Ho perso soldi Non è detto Che ho perso C'è Sicuro ho perso qualcosa Però La cosa che fa arrabbiare È che mi sono Sentito anche Peste e corna Nonostante Io per lui Ho saltato delle live E sa che c'ho dei figli E io lo ringrazio Per tutto quello Che ha fatto in passato Perché io Sto parlando di questo E mi ha deluso Su questo punto di vista Ma lui è venuto in live A volte ad aiutarmi Su Formula 1 È venuto anche qui In questa serie Che mi ha permesso Di portarlo quasi tutti i giorni C'era Si divertiva Ok Ha fatto quello che ha fatto Ma comunque Ha dato anche un vantaggio a me Quindi Fa niente Se ho perso dei giorni Una sub livello 3 Che non è poco Una sub livello 3 Che non è poco Quindi Non è che Io stavo parlando Su quel campo specifico Non sto parlando Come lui Di persona Perché lui di persona È una persona brava Adesso Si è sentito Alle strette Ha dovuto Come dire Cercare di slegarsi Dalle catene In qualche modo È la prima volta Che affronta Una cosa del genere Ma lo dovevo fare Se io non lo facevo E Lo prendevo nel culo io Cioè dovevo per forza Spiegare cosa era successo Anche perché io credo Che la maggior parte Delle persone Che si sono iscritte Su Che non si sono iscritte Oppure che passano a vedere Che cazzo faccio In live Che potrebbero conoscere Football manager Potrebbero aver già preso Il fatto che lui Utilizzasse quel Quel modulo E può essere che per quello I numeri crescevano lentamente Anche per quello Quindi ci sono Dei pro e dei contro Ma io non voglio parlare Di lui come persona Lui sui videogiochi Glielo ho detto Anche in privato E davanti ai ragazzi Che possono dirlo Lui Nei videogiochi Non sa perdere Stop È una persona Egocentrica È una persona che Vuole Non lo so Come Come dire Vuole Vuole sempre vincere Vuole sempre vincere Vuole Che non è sbagliato Nella vita Ok Non è sbagliato Se tu vuoi Perseguire un obiettivo Le persone più ricche Ferrero Apple Le roba varia So Quelle persone lì Con quella mentalità Non so le persone Come me Che oggi vanno in live Per dire il vero Solo pigliano nel culo Ok E perdono una sub Di livello 3 No Quelle sono le fallite Io sono la persona fallita Lui Ha la mentalità Della persona vincente Nella vita Ok E glielo ho detto Anche in privato Però Se io la penso In questa maniera E credo che La miglior cosa È non prendere per culo Né con chi giochi Né chi ti guarda E rispettare il prossimo Dall'inizio Alla fine Ok Accetta Quello che sono io Sapevi come ero io Evitavi Stop Perché Io voglio Che la mia Anche i miei figli Nascano con questo Con 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 Questa idea Ok Perché se tutti nel mondo Pensiamo solo A noi stessi No A mettere nel culo Il prossimo Io a quest'ora Non avevo soldi Non ci avevo un centesimo Perché se Oggi qualcuno Ha fatto la sub Di zio Ha Ha dato 50 euro È perché non guarda Solo al suo orticello Ma fa del bene Anche agli altri È Questa cosa A me ha insegnato A Rispettare il prossimo E Non prendere per culo Il prossimo Perché appunto Il prossimo Aiuta te Non sono tutti così E quante volte Mi sono incazzato in live Quante volte Mi sono incazzato in live Tante volte Che Che quante persone Non se ne fottono nulla Di fare una sub Guardano E non mi supporto Quante volte Però Devo Devo avere I miei principi E i miei principi Sono questi Sono sbagliati sul web Sì Sono sbagliati Purtroppo È meglio averli sbagliati Secondo me Che essere uno dei tanti Figli di puttana In live Che prende per culo L'utenza Perché poi Non so gli altri Ma io L'utenza Poi la conosco Nel privato E una volta Che la conosco Nel privato Non sono più persone Qualsiasi Che guardano la live Sono amici E a volte È stato sbagliato Quante persone Ho perso per amicizia Perché non ho invitato Al battesimo Quello Perché quello lì Si è sentito offeso Perché non l'ho invitato lì Quell'altro lì Perché non mi faccio sentire Tutti i giorni Quell'altro lì invece Per un'altra motivazione E tutte ste cazzate varie È anche un errore Però voglio commettere L'errore E il mio scopo Quando Ho startato Sul web Era appunto Condividere qualcosa Che mi piaceva Non fare un qualcosa Per prendere Un bordello di soldi È diventato il mio lavoro E mi sono trovato male Perché con questa mentalità Non vai da nessuna parte Appunto Potevo continuare A giocare A formula 1 E avrei avuto Più spettatori E più guadagno Ma io per culo Le persone non le piglio Perché giocare A un qualcosa Che non mi va di giocare E fare una live migliore Portando qualcosa Che mi va di giocare Se poi quella cosa Che mi va di giocare Me la distrugge In questo momento E mi è distrutto Completamente Stop Uno che voleva Farsi una famiglia Più semplice Di così Basta Solo questo Quindi ragazzi Quello che faremo È Finiremo il campionato Con lui Allenatore Ma lui non ci sarà Come persona Ci sarà solo Appunto Il cristiano Lì Che si chiamerà così Finisce la stagione Prendo il controllo suo Vendo tutti i giocatori Che ha acquistato È lo staff Che ha acquistato Dal momento In cui ho utilizzato Quel modulo Ok La squadra Viene scomposta Avrà solo Quei giocatori Che aveva una volta E poi Abbandono completamente Faccio dimettere L'allenatore Esonero l'allenatore E cancello L'allenatore Quindi Non ci sarà più Quella persona Ok Neanche il nome Non si potrà ricercare In modo che Non ci sarà più Nessuna immagine sua Dopodiché Dopodiché Dovrà essere Abile il Catania A poter riuscire A fare gli acquisti Ovviamente Quei giocatori Che andremo A togliere Non li daremo Non li svincoleremo Perché se no Potrebbero essere Presi dal gubbio Dal foggio No Quei giocatori Vanno venduti A squadre straniere Fine Vanno tutti via In squadre straniere O in competizioni Dove non ci sono I ragazzi Che utilizzano La loro squadra Esempio C'è un'offerta Da una squadra Di serie C Ma è nel gruppo Dove non c'è nessuno Allora si può vendere Quel giocatore Ma se c'è qualcuno In serie B E una squadra di serie B Offre per quel giocatore Non vado a venderlo A quella squadra di serie B Se no andrei a penalizzare Chi sta in serie B Ok Sperando che non si Butino i giocatori Vabbè Quelli che non si riescono A vendere Li lasciamo Ci ne vendiamo altri Che si riescono a vendere Comunque ce la smantelliamo Poi dovrà essere Bravo il Catania A ricostruirsi Durante l'estate E se riesce a salvarsi Ebbene Quello che faremo Io spero Di riuscire a Vedere qualcuno In serie B Domani ci sarà Oli anche Oli di zio Ci sarà Sarà la penultima live Dopodomani sarà L'ultima live Dove ci saranno Anche playoff Speriamo Io adesso Più che Questa annata Del Foggia Che ormai Sapendo cosa è successo Non mi diverte più Seguirò Con molta più voglia Le squadre di serie C Anche perché Prima ho letto in chat Perché indirettamente Avvantaggiato te L'ho spiegato prima Perché se una squadra Ogni volta Batte squadre Molto più forti O comunque Le depotenzi Perché acquisti Un giocatore Che era loro Ma non dovevi Prenderlo Le depotenzi Li abbassi Giù il morale Poi arriva il Foggia Subito dopo Dopo due partite Quelli c'hanno ancora In morale basso E io vado Riesco a vincere Al novantesimo Al novantacinquesimo 1 a 0 Anche se non dovevo Vincere quella partita Perché sono distrutti Moralmente Non girano proprio E quindi Continuano a fare Questo filotto Di sconfitte Perché si sono presi La batosta 5 a 0 5 a 2 5 a 1 Capite? Avete visto quanto È stato difficile Riuscire Con il Foggia Ad uscire Da queste sconfitte Quando il morale Era basso Della squadra Stessa cosa I bot Con le squadre Col morale basso Non hanno L'allenatore Che trovano A uno per uno E dice Bravo 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 Ti si è allenato No Vanno avanti Nelle giornate Continuano a perdere Il morale si abbassa Sempre di più Ed ecco perché Poi Perdi Il Sassuolo Inizia a fare Una sconfitta Dietro l'altra Questo Poi ci sono anche Le annate Attenzione Che Anche Certo Però tu In due anni su due Ti sei trovato Nella stessa Categoria E due anni su due Ci sono state cose strane Però Sì No Appunto Ma anch'io Tutte queste vittorie Di 1 a 0 Qui risicate Sono dovute Sono dovute Dal fatto che c'era Appunto Il Catania Che andava lì E vinceva 5 a 0 5 a 1 4 a 2 4 a 1 Sono risultati pesanti Abbassi tanto il morale Delle squadre Poi arrivo io Perde quella partita 5 a 1 Gli si abbassa il morale Affronta una squadra Più cessa La batte la squadra cessa Arrivo io Lo batto io Il morale a pezzi Quelli non riescono mai A ripigliarsi Anche perché È una squadra Che scende dalla serie B Ha già dei giocatori Che se ne vogliono Andar via Col morale basso Chi non vuole rinnovare Poi gli dai la batosta Pure 5 a 0 5 a 1 6 a 2 Ragazzi 14 a 1 In Coppa Italia Con una squadra Qual era Aspetta 11 a 1 Con la Spal Mi pare 11 a No aspetta Era 11 a 1 Con la Spal 10 a 1 Con la Spal 10 a 1 10 a 1 Con la Spal 4 a 1 Contro il Lecco 5 a 1 Cioè Guardate che risultato Cioè Una squadra Che sale Che sale In serie B Capisco Uno può essere Bravissimo Quello che volete Eccetera Eccetera Ma avere Questo win rate Davvero Questa è la serie B Con giocatori Di merda Perché noi Ve lo possono dire Ragazzi Senza che lo facciamo In live Abbiamo paragonato I miei titolari Con i suoi titolari Finché c'era Millico Vincevo io 6 a 5 Cioè Avevo 6 giocatori Più forti di lui Lui 5 Giocatori Più forti Dei miei E La maggior parte Erano Era l'attacco Che era più forte Il suo All'inizio Della stagione In serie C C'era molto Più gap Qui Capite bene Che Vedete che Una squadra Che adesso Vendendo Millico Perdo io 6 a 5 Sulla rosa Del Catania Però Un solo giocatore Ok le riserve Però se andiamo a vedere Anche le riserve Non c'è così tanta differenza Tra Foggia e Catania Ricordiamo che di default Il Catania comunque Era più forte del Foggia E appunto Per quello Gli abbiamo dato Una squadra più forte Che non aveva mai giocato Di vantaggio pure così Vabbè comunque Senza ritornare Sempre su quello È possibile che Quella differenza Di giocatori Guarda quanta differenza C'è Tra le due squadre Si nota proprio Che c'è qualcosa Che non va Ma io Qualsiasi giocatore Prendo Ha segnato Nella sua squadra Qualsiasi Vado su Curado Ha fatto un assist Un difenso Vado su Cortinovis Ha fatto di gol Vado su Ghilardi Chi cazzo è Ha fatto un assist Ehm No ma mi sa che Ghilardi Li deve ancora arrivare Vabbè Krastev Tre gol Un assist Un difenso Ricentrata E vabbè Rilei Cinque partite a metà Ha fatto un assist Ma io Qualsiasi premo Quaini Dieci gol Quaini Ho sette di finalizzazione Eh Sette di finalizzazione Giocando da mediano Giocando da mediano Vabbè comunque C'hai i tiri dalla distanza Diciamo così Vabbè comunque Ehm Flynn Un gol Tre assist Italiano Italiano Dio cane Cioè vi rendete conto Sto giocatore Cross sette Passaggi dieci Ha fatto tre assist In sei partite Italiano Jacop Jacop Italiano Celli Che ve lo dico a fa Ha segnato più Ha fatto più assist Nel altro po' Che ha segnato Chi di Tonin Che mi ha fatto Quattro gol A me l'attacca Vabbè comunque Assis di Millico D'embalò pure Sanchez non lo vedo neanche Sanchez non lo vedo neanche Perché non lo doveva Proprio avere Ma così come altri Giocatori non li avrebbero Mai accettato Ehm Tutti hanno segnato Qualsiasi premo Ragazzi Tutti li hanno segnato Popovic 13 gol Maron Qualsiasi Guardate C'è Ladinetti pure Zanellato No questo l'ha dato in prestito Se non sbaglio Si No Boh Vabbè comunque Ragazzi Qualsiasi pigli Ecco perché Quando giocava La Coppa Italia Di Serie C Metteva le riserve E vinceva lo stesso Capite Lui Il Cesena Tra l'altro Il Cesena Il Cesena avrebbe vinto Probabilmente La Coppa Italia Di Serie C E invece non ha vinto Il Cesena ha vinto Lui Il Cesena Si internava in difesa E spazzava solo Perché questo Come funziona C'è una cazzo di monetina Nel gioco Ogni volta che c'è un passaggio Dei giocatori Hanno delle statistiche Ok Poi in base al modulo Tu lanci Sta cazzo di monetina Se c'è il 99% Di vittorie Con una tattica E roba varia I giocatori Avversari Spazzano Perché sei troppo superiore Ma non sei superiore Di giocatori Ma anche se lo fossi Una squadra Non può Con lo spazio Spazzare Così a cazzo Ok Perché il gioco È concepito Sul Ok Se c'è i migliori analisti Al massimo Dopo 7 stagioni Arriva al 90% Di win rate Poi pure i giocatori Di Serie A Ok Ma non puoi fare Sto filotto Con una squadra Di Serie C C'era qualcosa Che non andava Ed è Ed è questo Basta Chiuso discorso Non ne parlerò mai più Se poi verrò Preso in causa Da qualcuno In particolare Sa chi Con chi sto parlando Continuerò Per mostrare altro Se nel caso Si diranno bugie Se poi Finisce qui Per me È finita qui Anzi Speravo Venisse In live Speravo venisse In live Che si potesse Appunto Chiarire Visto le Offese in privato E La strana cosa Del Della gazzetta Offensiva Che non capisco Cosa ci sia Di offensivo Però Appunto Non è Persona Da venire In live Purtroppo Scusa se ti interrompo Pia ci tenevo A specificare Che quella roba Dell'università Eccetera Ho dato io L'idea Quindi me ne assumo Io Ma vabbè Ma Ma non c'è nulla Di offensivo In quella cosa Cioè ragazzi Voi l'avete visto Offensivo Voi dalla chat Secondo voi È un'offesa Verso di lui Studente Di ingegneria Comprava gli esami Radiato dall'università Pensava si potesse fare E' stato il mio amico Ma no È stato scritto In maniera simpatica Ma sì Ma è Per enfatizzare Appunto Quello che era successo Nel gioco Puoi per dire Eh Ha usato il modulo Per vincere Allora magari Ha fatto La stessa cosa All'università Che poi Quattro cose in croce Sai su di lui Non è che Non è che ne sappiamo Così tante Sai che l'università fa Che gioca a Formula 1 E che gli piace a FM Quello sai Su cosa devi scherzare Cioè Ah Appunto Io ho fatto quella gazzetta Ieri ho detto Dai la sbango così Faccio la gazzetta Domani dico che Giovanni non sapeva Che potesse Distruggere così tanto Cioè Lo dicevo in un'altra maniera Anche se Mi bruciava il culo Del Non essere andato in live Dover aver Come dire Ragionato Per trovare una soluzione Per i suoi danni Sarei venuto in live E avrei detto Ragazzi Siccome Giovanni non sapeva Rompesse così Anche se gli avevo detto Di non utilizzare I regolamenti Erano due Roba varia Però non pensava Potesse rompere così Il gioco Quindi Pagliuzza Lascia il Catania Poi Se esce la squadra La sua città Riviene Ripartecipa Però Giustamente Da regolamento Va penalizzato Stop Mi sarei fermato lì Ma Dopo che tu mi vieni Ad attaccare in privato E vuoi pure che Ti devo parare il culo Ma neanche no Ragazzi Ma neanche no Ma neanche no E basta Tra l'altro Stavo notando Stavo notando Prima quando facevi vedere Il Il campionato Quello di Serie C Che ha fatto lui E quello che è attuale Stavo notando anche la differenza Tipo c'è il Crotone Che sta dominando Avrà fatto tipo Un terzo Dei suoi gol Manco neanche Sta vincendo tipo 34 gol Il campionato Il Crotone Lui ne aveva fatti 99 Nanni Non lo so Io non guardo queste cose Non te lo so dire Perché Io i giochi gestionali Non vado a ricerca su internet Adesso in questi giorni Ho ricercato Per vedere il casino Che ha combinato lui La persona in questione Ma io non vado a ricerca Perché se no Se io so già Come funziona una tattica Poi è normale Che tu Sapendo come funziona La vai a utilizzare E così ti prendi un vantaggio Ma poi non avrebbe senso Proprio giocare Dice perderei Quella voglia Di giocarci Quindi non so se Comunque la questione Del win rate Roba varia Ci potete arrivare Ma dovete usare Gli analisti Senza ricerca su internet Se no che cazzo Gli allenatori fate Dopo svaricare Fra qualche anno Sarà Ma 99 99 Non ce la fa Non ce la fa Nè mo Nè ma Volete mettere Che soddisfazione c'è Vedere Le cose che vanno male Mettersi lì Con la propria testa E venirne a capo Che andare su internet Prendere il modulino Metterlo lì A posto Risolto tutto Scusa Luca se ti interrompo Teo Dipende se il potenza Si decide Se il sorteggio Favorevole Sale il potenza Dalla serie D Se no Bu Se esce il potenza Ci sarà pure Maurizio La questione è che Maurizio in questo momento Non è in Belgio Cioè a casa sua In questo momento Dove vive Ma è andato a trovare I genitori in Italia E quindi In questo momento Avrebbe difficoltà A partecipare Se nel caso Esce il potenza Glielo diamo in mano Però Finché non ritornerà In Belgio Non si è mai scendo Un'altra volta No vabbè Poi ovviamente Siccome lui ha perso Due stagioni Cercheremo di Dargli i prestiti Di giocatori Che non utilizziamo Però Senza scammare Nel senso che Io posso Prestargli un giocatore Favorisco lui Nel prestare il giocatore Lui invece Del Benevento Però ovviamente Se il giocatore Ho bisogno che giochi Tipo Sadiku Allora lì Posso Dargli il prestito Gratuito O se non lo vuole Nessuno E lo devo dare A un affiliata Che il Sansevero Che lo devo pagare Io lo stipendio A sto punto Glielo do a potenza Se invece È un giocatore Che prende tanto Di stipendio E io devo vedere L'interesse del mio foggia Se riesce Glielo presto Ma paga comunque Lo stipendio Quindi non è Una questione di scam È semplicemente Favorire potenza Visto che adesso Sarà completamente distrutto Sono affari Che si vedono ovunque Nel calcio Quindi Appunto È a maggior riprova Che appunto Ci si aiuta Anche tra di noi Ma è che L'altra volta Nell'ultima live Ho detto Alla persona innominabile Adesso Perché adesso Non nominerò più Alla persona innominabile Arsenico Lupin Chiamiamola Arsenico Lupin Così capiamo No dai Pier No Arsenico Lupin Vabbè No Zidane Vabbè Lupin Che potremmo Sopraniamo Lupin Che colpa Lupin Non posso dire Lupin No Lupin Lo sanno di chi parli Da lui Lui Vabbè Lupin Allora Dicevo Che stavo dicendo Annaggia Chi devi Mi soppè A fine live Eh a fine live Gli avevo fatto vedere Acquistalo il giocatore Dell'Inter Guarda che è in scadenza Vi ricordate che Ho detto in live Acquista il giocatore In scadenza dell'Inter Chi cazzo era? Iliev Bravo Iliev Ecco vedi che Meno ma Maurizio C'è il cervellino Incredibile Iliev Glielo ho consigliato io Di acquistarglielo Questo qua Questo Poi non è riuscito Perché l'ha preso un altro Se non ricordo male Oh ha rifiutato Non mi ricordo Ha rifiutato Però glielo ho detto io Che era in scadenza Quindi ci aiutavamo Glielo ho detto Anche nel momento Che lo sapevo È andato al Modena È andato Ah si è vero È andato al Modena Sì sì Me lo ricordo Perché Io sono un grande fan Di questa serie La seguo nel dettaglio Quindi Sto attento No non è andato al Modena No Aveva accettato Al Modena Però Deve andare al Modena Scadenza contratto C'è scritto Si unirà al Modena Il 16 Il 17 2025 Dove cazzo lo leggi? È scritto nella pagina principale È scadenza È scritto là Sopra il prezzo Si unirà al Modena Il 17 2025 Appunto Questo ragazzi Potete rivederle Le live Non è che dico Puttanate Giusto per La questione Mi nervosisce È appunto Dover fare anche Queste live Hai capito? Perché io Già ho i cazzi Miei I problemi miei No? Grazie Sancio Già io ho i cazzi Miei Di problemi Che devo pensare I cazzi miei Come è arrivato Alla fine del mese Varie bollette Ma le tasse Che devo pagare In mutuo Porca puttana I contributi In 750 1010 euro di tasse Roba vai Hai già pensato A fare la live Ovviamente Farvi vedere Che cosa è successo E devo pensare A crearmi Un nuovo problema Io non lo so Già ne ho tanti Si creano E devo creare Altri problemi Colpa mia Ripeto È colpa mia Dovevo sapere il soggetto Però Fa niente In buona fede Tu sapevi che Era una persona Che poteva essere presente In live Quindi Secondo me Non hai sbagliato Non è colpa tua È una persona Che poteva essere C'era sempre Tutte le live Sapevi che Te l'avevi già portato In live Quindi era già collaudato Ti poteva portare contenuto E tutto Cioè Non è Non è l'errore Secondo me Perché stai dentro No Stavo pensando una cosa Scusami Ogni tanto Mi viene qualche colpo Di genio Ci penso Già rido Allora Dicevo Niente Stavo ridendo Mi so perso Un pochettino Vabbè Penso di aver detto tutto Questa live È questa Quella che ho fatto oggi Poi domani Continuiamo Tanto tra pochi giorni Uscirà Formula 1 manager E alterneremo I due giochi In modo che Le persone che lavorano Le vedrete di più Perché nei giorni Che non ci sarà La possibilità Di mettere più di Due barra tre persone In live Non ci sarà Live football manager Quindi alterneremo Con Formula 1 manager Quindi vedrete Tre puntate di football manager E tre di Formula 1 manager Perfetto Poi Nei prossimi Nei prossimi giorni Ne ho già parlato Con mio nipote Così live Cazzeggio Un pochettino Sul Rainbow Six Mi andrebbe Di fare Tu non ci sei mai stato Quando gioco con mio nipote A Rainbow Six Che attivo il microfono E faccio Devo stare attento A non essere Bannato Però E niente Domani Domani continuiamo Ci sarà Oli C'è zio Ci sono io Non ci sarà Diego Speriamo che arrivi Il potenza E speriamo di vedere Squadra in serie B Io non posso Io non posso Giocare Per sperare Di rimanere in serie B Anche Per lo sfracello Che ha fatto Arsenio Lupin Quindi Quindi ragazzi Io giocherò al massimo Se vado in serie A Mi ha bruciato le tappe Però Oh Vuol dire Che devo stare in serie A Poi se retrocedo Godo Però Non è che Non posso giocare al massimo Per quello Ragazzi Io Vi dico Grazie per chi ha supportato Scusatemi se Ho avuto alcuni Alcuni momenti di rabbia Ma capite Quando mi toccano il lavoro Un po' mi arrabbio Poi Mi sendo toccato E offeso Da una persona Che comunque Ero affezionato E non ve lo nascondo Nonostante sia più piccolo di me Mi ero affezionato A quel ragazzo E nonostante tutto Fino all'altro ieri Gli dava anche consigli Cioè Su determinate cose Fatti sui personali Quindi Mi so sentito davvero tradito E' peccato Che quella Che quella persona Non ha provato A A Dimostrare Superiorità Ma Sta dimostrando Inferiorità Appunto Scappando E non risolvendo Il problema E Una stretta di mano E si è risolto tutto No Purtroppo no Vabbè Ragazzi Noi ci vediamo Domani Ripeto Chiedo scusa Per 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 i momenti di rabbia E Non so che dire Vi leggo Gli ultimi secondi E E poi me ne Poi me ne vo Questa è una cosa Pier Prima Di chiudere Devi dare la sentenza Devi battere il Marcellà E il martelletto da battere Per dare la sentenza Quindi Va bene come penalità Quello che abbiamo detto Al Catania Ce lo volete così Che il fatto che Andiamo A posto Quindi batto il martelletto A posto Battuto il martelletto Signori E vi saluto Ciao a tutti No Cazzo è partito La pubblicità è partito No chiedo scusa Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 ragazzi Ciao No io non chiudo Ciao boys Ciao boys No sto scherzando Aspetta Vedete che lo vediamo Ok Lo vediamo se siamo ancora in live Non ci freghe Di pagliuzza solo uno ce n'è Di pagliuzza solo uno ce n'è Sempre pronto a scammare lui è Un Catania al sicuro non è Se c'è dintorno Lupe Oh Lupe Con il rischio gioca sempre perché Basta Ciao Arrivederci Ciao ragazzi Ciao Mocca mamma Ciao